Carissimi fratelli, siamo qui oggi nello studio insieme a Deborah Ciao a tutti E anche, fatelo Giuseppe, come sempre Buongiorno, Dieti e Benedica Deborah voleva condividere con voi una testimonianza di questa settimana riguardo i bambini Questa settimana siamo stati a un esame con i bambini Voi sapete che i bambini di fratello Giuseppe e Deborah stanno facendo scuola in casa Seguono una scuola americana, i libri di America, una scuola cristiana E volevamo fare un esame con una scuola qui locale, una scuola spagnola Per vedere come vanno, come stanno Qualche mesi fa siamo stati in questa scuola per evangelizzare Abbiamo messo tutti gli alunni insieme E abbiamo fatto un programma di evangelizzazione con un teatro Proprio per dare un messaggio ai bambini, parlando di Gesù E perché ci conoscevano, già sapevano che siamo missionari Gli abbiamo chiesto se possono loro esaminare i figli E sono stati felici di farlo E quindi quando siamo andati lì alla scuola Tutti hanno detto, ma vi conosciamo, tutti ci conoscevano E quindi siamo andati lì alla mattina Abbiamo lasciato tutti i libri Così che loro possono preparare l'esame in inglese E nel pomeriggio siamo ritornati per fare i test E loro avevano dei professori di inglese che ci hanno aiutato tanto E hanno messo i bambini insieme in una stanza E tutti hanno cominciato il test E' andato molto molto bene E poi hanno fatto anche un esame orale con i bambini Questo non sapevamo Io sono stata molto sorpresa E anche i professori Qui il sistema di evaluazione funziona fino a 100% Deve avere 100% punti E tutti i bambini 5 che sono stati esaminati Hanno passato l'esame con Dal 93% al 100% Cioè praticamente loro lo suddividono a percentuali Quindi da 1 a 100% Il massimo è 100% E per poter superare l'esame è il minimo di? 60% Quindi con 60% si passa E il 100% è il massimo E Jasmine di 7 anni Quanto ha ricevuto? 100% 100% E lei ha 7 anni E gli insegnanti ne erano molto sorpresi Che erano di sopra dalla media dei ragazzi della loro scuola Perché si aspettavano che avendo studiato in casa Chissà Che sono un po' lazzarone Chissà cosa aspettarsi Non sappiamo cosa aspettarsi Quindi I nostri bambini sono arrivati dal 93% Minimo al 93% fino al 100% Sì, grazie Gesù Quindi eri contenta E' stata una cosa Diciamo Come hai detto Major accomplishment Una cosa Un raggiungimento importante Hai detto E quindi Perché negli ultimi tre settimane Siamo stati un po' sotto pressione Con gli esami Però adesso sono molto felice anche loro Sì perché qualcuno era indietro in effetti Perché i libri dell'America sono arrivati Tardi Tardi per dirgli spostamenti tra Perù Argentino E non sapevamo mai l'indirizzo dove riceverli Per cui sono arrivati in ritardo Di tantissimi mesi Quindi gli ultimi Così L'ultimo due mesi Di venerdica Debora Ha dato una grossa spinta Infatti Studiavano quanto? Sette ore al giorno? I don't know They studied a lot Sì Di solito studiano quante ore al giorno? A couple of hours Ok Di solito studiano Un paio di ore al giorno O quanti giorni alla settimana? Five, six days Studiano cinque, sei giorni alla settimana Due ore in media Ogni giorno Si, dipende dai progetti Però in media Ok, e di media Sono due ore Average is a couple of hours La media è di due ore di studio al giorno E ripeto Che è? Ok Quindi a volte fanno di più A volte di meno La media è quella Quindi questa è la grandissima benedizione Direi io Di studiare in casa Perché in due ore Fanno quello che i ragazzi Nelle scuole pubbliche Fanno Non so quanto studiano Questi tempi Sei ore Tutto il giorno Tutto il giorno Poi anche Però studiano cose che non hanno bisogno Sì Anche dopo il dopo scuola A casa Eccetera Perché Nelle scuole pubbliche Che si studiano Il 90% Sono stupidaggini Praticamente Mettono materie Sopra materie Ma lo scopo è politico Cioè dare del lavoro agli insegnanti Sì Io mi ricordo quando in Italia Tanti anni fa Da 16 anni La scuola L'obbligo È passata a 18 E praticamente L'hanno fatto Per creare posti di lavoro Agli insegnanti Che si lamentavano Che non c'erano posti di lavoro E loro hanno aumentato L'età Da 16 a 18 Cosa che fanno Tutte le nazioni Perché c'è stato Un insegnante cristiano Che ha scritto un articolo E ha detto Tutti questi anni di scuola Tutto ciò che i bambini Hanno bisogno Sono 4-5 anni Che una volta Che ha insegnato La matematica A scrivere A leggere E un po' Di storia Poi il bambino Da solo Può studiarsi La storia Quello che gli pare Invece qui arrivano I 18 anni E ancora non hanno capito Cosa vogliono fare Nella vita Quindi vanno all'università E dopo fanno ancora Altri corsi Corsi Sopra corsi Di specializzazione Cioè praticamente La mafia è entrata Dappertutto Cominciando con le scuole E l'ateismo Eccetera Ma anche quando io vedo Come studiano loro Qui in casa Mi rendo conto Che le cose che io ho studiato Sono stata una perda di tempo E una perda di tempo Perché tante cose Ho dovuto memorizzare Riempire la mia testa Con dettagli Di cose che non ho usato mai Non ho bisogno di niente Mi ricordo Mi raccontavi Quei filosofi Che dovevi memorizzare Imparare a memoria Le loro poesie Messaggi Che erano depressivi Erano depressivi C'era uno che Parlava del suicidio Che alla fine si è suicidato Lui è stato satanista Charles Baudelaire Era un grande poeta francese Che dovevo studiare E memorizzare E lui è stato satanista E scriveva poemi Preghiere al satana E poi si è suicidato Questo Però è grande È conosciuto Sì è grande Nel regno del diavolo È grande per il diavolo Quindi questa è una scuola pubblica È politica È videogames È perversioni sessuali È droga È bullismo Cioè praticamente Mandando i bambini Alla scuola pubblica Li mandate All'immondezzaio Li mandate Li mandate Nella bocca Di Moloch Di Baal Del diavolo Infatti tornano a casa Sentiamo fratelli Che ci raccontano Di loro figli Che sono stati Picchiati Persegurati dai bulli Hanno sviluppato Complessi In inferiorità Le scuole pubbliche Come tutto il resto Del mondo del diavolo È da evitare Io gloria a Dio I miei sei figli E c'è uno di 17 anni Non sono andati Neanche un giorno Nella scuola pubblica E questo è un altro motivo Che io mi sono spostato Di nazione in nazione Di paese in paese Per questo mi guardavo bene Da tornare in Italia Per proteggere i bambini Perché quando sei all'estero Sai Sei forestiero C'hai un sacco di di Diritti che nella tua nazione Non hai Infatti quando mi ricordavamo Europa dell'est Venivano le autorità I dottori illegali A dire Perché tuoi figli Non fanno vaccinazione Dico ma se la vedono In Italia In Italia Sono italiani Ah ok va bene Va bene E quando è capitato Il gran Italia Era la stessa storia Andavano per questo Per quello I dottori ci chiedevano E i vaccini Dove sono? Ah no E tutto Noi lavoriamo fuori dall'Italia Ah ok E ne va bene Insomma In una maniera o in un'altra Già da anni Noi evitiamo Facciamo lo slalom Per evitare le regole Anticristo Amen Amen Grazie Gesù E quindi tutto è passato bene Ringraziamo Dio Gloria Signore Grazie Deborah Grazie Un abbraccio Dio ti benedica Amen Vai a controllare la ciurma La maggioranza Sono fuori a evangelizzare Oggi però Se non rimasti Quanti se ne hai in casa adesso? Tre 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 soldati qua Che ti tengono indaffarata C'è uno che sta ancora dormendo Se non mi sbaglio I due più piccoli Dormono ancora? Sì perché qui hanno cambiato l'ora Stanotte Abbiamo perso un'ora Sì qui sono le dieci e le dieci Siamo entrati nell'orario estivo E per questo i bambini dormono ancora Ok Perché qui in inverno abbiamo visto ben poco Perché la temperatura è benedetta Quindi 15-20 Di 23 gradi d'inverno Durante il giorno La notte si avvicina a zero Quindi ci vuole doppia coperta Però appena ti svegli Alle 8-9 Già c'è il sole E quindi c'è uno sbalzo di È vero o no? Sì Dalla mattina c'è uno sbalzo di 20 gradi subito Quindi di notte Però di notte Ti copri e ciao E dormi Allora Angelina Giuseppe Tu hai detto che il Signore ti ha dato un messaggio Di cosa si tratta? Si tratta di Che Per poter Mentre pregavo Il Signore mi ha mostrato Che per poter superare Quello che verrà L'anticristo Il tempo della fine La tribolazione È un marchio della bestia E dobbiamo diventare Una chiesa di pastori E cosa significa Una chiesa di pastori? Sì E questo interessa anche Fratelli nuovi che ci scrivono Quindi mettersi in testa Che Non possiamo C'è chiamato Di essere una chiesa di pastori Non di pecore Ma ogni chiesa È un gruppo di persone Che ha un pastore Cosa significa Chiesa di pastori? E beh Non necessariamente Gesù aveva una chiesa Che erano 12 discepoli E 12 pastori Come 12 leader? 12 leader Che ognuno faceva qualcosa Non solo seguiva Sì Non 12 pastori Che litigano Chi deve comandare Al contrario No 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 Le chiese che litigano Su chi deve essere il capo Sono le chiese Che non hanno capito Che il pastore È quello che va al Calvario Per primo Quello che entra nell'arena Per primo Che va davanti I leoni per primo Che abbandona i suoi soldi Per primo Che va nelle strade Per primo Il pastore non è Quello che gli raccoglie soldi Quelli sono i mercenari E buonanotte Per questo Che fanno la gara Essere pastori In certe poste Si tratta di Chi fa più soldi Sì Capisce Invece Una chiesa vera Si facciano avanti i pastori Perché si tratta di Sparare E essere uccisi per primo Soffrire per prima Abbandonare per primi Va bene Allora hai dato come esempio Gesù e i 12 discepoli Allora vuol dire che Tutti dobbiamo avere Iniziative Di fare qualcosa Di portare frutto Di essere il leader Di essere un discipolo Si Tutti quanti Cercare di essere come Gesù Perché una chiesa Piena di pecore Non andrà da una sola parte Ci servono Invece pastori In altre parole Signore Quello che manca Gesù non ha mai dato Di pregare Per le pecore Non ha mai dato Di pregare per le pecore Che arrivino In abbondanza Matteo 9,37 Ha detto Pregate per gli operai Pregate per i leader Gesù si guardò indietro Matteo 9,36,37 Lì ha detto Si guardò indietro E vide le masse E fu mosso a compassione Perché erano come pecore Senza pastore Quindi della mancanza Nel mondo Non sono le pecore Ce ne sono a milioni E che sono sbranate Dai pastori lupi Questi lupi Travestiti da pastori Che cercano solo Di sfruttarli E quello che manca Sono i pastori Pastori che danno L'esempio di sacrificio Di abnegazione Condividono la propria La propria coperta Con chi non l'ha Il cibo con chi non l'ha I soldi con chi non lo hanno Non solo il mercenare Che vedi oggi Che sembra delle banche Sembrano Molte banche Sembrano società per azioni E quindi mercenari Quindi ci servono pastori Che siano come Gesù Come gli apostoli Come i discepoli E Gesù ci ha mostrato Che dobbiamo essere La chiesa dei pastori E' chiaro che ci sarà Sempre una guida Che posso essere io Può essere tu Può essere un altro Che a noi ci piace Chiamarli anziani Pastore Gesù Cristo Poi per intenderci Diciamo il pastore Che sono io Ma il vero pastore Gesù Cristo Per parlare una lingua No infatti tu Sempre ci incoraggia Ognuno di noi Di essere leader Non sempre di avere bisogno Che qualcuno ti dice Cosa fare Vai lì Fai questo Ma di pregare Sentire la voce di Dio E porre in pratica Quello che il Signore ti mostra E anche guidare gli altri Sempre dare una mano di aiuto E fare qualcosa attivo Non solo aspettare Che siamo sempre Spostati Sì Come fai questo Fai quello Fai questo Fai quello Sbagliato Sbagliato Cioè uno deve ricevere Da il Signore E quindi Capisci E anche se facciamo errori All'inizio Così impariamo Attraverso gli errori Impariamo le cose giuste Dalle cose sbagliate Esatto Quindi non aver paura Di sbagliare Sì Va bene Quindi guarda Se tu vai Andiamo in Daniele 11 31 Guarda Daniele 11 Sì qui parla del tempo Della fine E l'inizio dell'anticristo Va bene 31 Sì questo è esattamente Esattamente Nel lato Che comincia la tripolazione Va bene Daniele 11 Sì fino a 35 magari Forse da lui mandate Si leveranno Per profanare Il santuario Fortezza Supprimeranno Il sacrificio Continuo E vi collocheranno L'abominazione Che causa La desolazione Ok quindi L'abominazione Deposta nel tempio Di Gerusalemme Come Gesù ha detto A Mattia 24 32 Con lusinghe Corromperà Coloro Che agiscono Empiamente Contro il patto Ma il popolo Di quelli Che conoscono Il loro Dio Mostrerà Fermezza E agirà Ok Quelli che conoscono Dio agiranno Wow 33 Quelli che hanno Sapienza Fra il popolo Ne istruiranno Molti Ma per un po' Di tempo Cadranno Per la spada Il fuoco L'esilio E il saccheggio Quando cadranno Sarà loro dato Un po' Di aiuto Ma molti Suoniranno A loro Con false Apparenze Quindi Questi sono Falsi cristiani Attenzione Falsi cristiani Come dice In Galati 2 4 Attenzione Falsi fratelli Ok In nostra chiesa A noi Il Gesù Ci ha dato Discernimento Fino adesso Gloria a Dio Che i falsi fratelli Non entrano Ci scrivono a volte E si presentano A pecorelle Qual amà Vogliono solo Il proprio interesse Noi questi Non li invitiamo Qui E non li invitiamo Non diamo In indirizzo Non mandiamo Una foto Niente Perché sono Falsi fratelli Il Signore Ce li mostra Infatti Per diversi anni Abbiamo avuto Un ministero Di lavorare Con le streghe Contro le stregonerie Contro le maledizioni Ci telefonavano Incontravamo Gente Che era Stregata Dalle streghe A pieno di maledizioni E ci telefonavano Le streghe Per darci problemi E volevano incontrarci E si camuffavano Da pecorelle E in un attimo Il Signore Al telefono Ci mostrava E si accendeva Come B B B B Streghe Streghe Diavolo Diavolo Cioè era così Sovrannaturale Il Signore Ci davo Un discernimento Al telefono Di sapere Quali erano Le streghe Ti ricordi no? Sì perché ponevano Troppe domande strane Normalmente Quando una pecorella Ci chiamava Che aveva bisogno Di aiuto Diceva Le probleme Che ha Piangeva Aveva bisogno Veramente di aiuto Le streghe Invece Chiamavano Dicendo Io ho bisogno Di aiuto E possiamo Incontrarci E poi cominciava A chiedere Un sacco Di domande Su di noi Chi siamo E che facciamo Che religione Perché lo facciamo Quanto Quanto facevamo Pagare Cosa che normalmente Una pecora Non chiede In effetti Vengono Come i virus Del computer Un coso di fuoco Che non riescono A passare Antivirus E se Oppure se siete qui Nella zona Certo è più facile Ci contiamo Di persona Ma i fratelli Che non possono Venire Che sono La stragrande maggioranza Come faranno Dovete imparare A diventare Pastori Apostoli Discepoli Operatori Di miracoli Di guarigioni Va bene Questo è il messaggio Vuoi andare avanti Daniele 11 35 Alcuni di quelli Che hanno sapienza Accadranno Per essere affinati Purificati E imbiancati Fino al tempo Della fine Perché questo Avverrà Al tempo stabilito Quindi vedi Farsi assegnamenti Che non passeranno Suppostamente Non dovremmo Passare La tribolazione Perché Dio ci ama E' mica vero Verso 35 Dice Persino i saggi Cioè quelli Dallo spirito giusto Cadranno per essere cosa? Affinati Purificati Resi candidi Fino al tempo Della fine Va bene E infatti Verso 33 Dice Saranno abbattuti Per un certo tempo I saggi Sta parlando Dalla spada Dal fuoco Dalla schiavitù Dal saccheggio Quindi qui vediamo La sconfitta Della chiesa materiale La sconfitta Dalle chiese Dalle chiese nazionali La distruzione Delle chiese edificio Vediamo qui E poi Tornando al verso 32 Dice il popolo Di quelli che conoscono Loro Dio Mostra la fermezza E agirà Quindi questa parola Conoscere La trovi in tutte le parti Della parla della sposa E le vergine con olio Che Gesù disse Alle vergine senza olio Io non vi conosco Andateveni di qua E chiuse la porta E non poterono entrare Per sposarsi con Gesù Quelli senza olio Perché Gesù non li conosceva Conoscere nella Bibbia È una cosa molto profonda Adamo conobbe Eva Partorì un figlio Capisci? E Giuseppe non conobbe Maria Fino a che partorì Il primo genito Gesù Poi ebbe fratelli Capisci? Da parte le sciocchezze religiose Che raccontano Gesù ebbe fratelli Quindi questi Che Che conoscono Dio Sono la sposa Cosa farà la sposa? Mostrerà la fermezza E agirà Naturalmente in questi Sono compresi 144.000 Anche quelli sono la sposa Va bene? Sì Quindi Questo messaggio Daniele 11.31 È che dobbiamo diventare Saggi Leader Appinché possiamo insegnare E guidare le masse Ci saranno masse Ci saranno milioni Di cristiani Che saranno distrutti Milioni di cristiani Che saranno distrutti Uccisi Perseguitati Allo stesso modo Che Hitler Ha fatto con gli ebrei Allo stesso modo Che gli islamici Stanno facendo Con i cristiani In Nigeria In Iraq E questo andrà aumentando Molti saranno In marchi ingegni Del diavolo Per distruggere i cristiani Va bene? Per questo che noi Siamo fuggiti Dall'Europa Nel 2011 Ci siamo rifugiati Qui in Sud America Perché Gesù Ci ha detto Questo è un posto rifugio Infatti siamo arrivati qui E abbiamo avuto la conferma Questo è senz'altro Un luogo rifugio Secondo me È uno dei migliori In tutto il mondo Perché le nazioni Circonvicine Parlano tutta la stessa lingua Va bene? Allora io andrei Da 2 Timoteo Capitolo 2 Verso 1 E continuiamo E continuiamo col messaggio 2-1 Tu dunque figlio mio Fortificati nella grazia Che è in Cristo Gesù Vai avanti E le cose che hai udite da me In presenza di molti testimoni Affidale a uomini fedeli Che siano capaci di insegnarle Anche ad altri Amen Verso 3 Quindi dobbiamo sempre insegnare ad altri Questo è il lavoro dei leader Tu dunque sopporta sofferenze Come un buon soldato di Cristo Gesù Nessuno che presta servizio come soldato Si mischia nelle faccende della vita Se vuol piacere a colui che lo ha arruolato Similmente se uno compete nelle gare atletiche Riceve la corona unicamente se ha lottato secondo le regole L'agricoltore che lavora duramente Deve essere il primo a goderne i frutti Va bene Quindi qui vediamo che dobbiamo essere soldati di Cristo Gesù Andare alla guerra Non immischiarsi nelle faccende di questa vita Si E per far questo dobbiamo sopportare le sofferenze Quindi essere un leader per Cristo Si tratta di soffrire a volte Vedi il drastico contrasto Con le false religioni che ti siedono in chiesa e canti Dove sono i soldati? Dove soffrono per Gesù? È una vacanza Per questo è che saranno distrutti dall'anticristo Quindi dobbiamo diventare soldati Dobbiamo essere disposti ad entrare nella sofferenza di Cristo Sofferenza a volte necessaria per poter portare i frutti di Cristo Frutti di anime salvate Di Vangelo predicato Di raggiungere le masse Fino adesso le masse sono tutte intrappolate in queste prigioni chiamate chiese della domenica Ma quando arriverà l'anticristo? Queste false chiese saranno tutte sfasate Moltissime riceveranno marchio della bestia Altre saranno sfasate, perseguitate e distrutte E ci sarà bisogno di leader Dobbiamo diventare noi Ed altri come noi Anche fratelli che non conosciamo ovunque Devono, dobbiamo diventare guide Pastori Perché sta per arrivare un collo di bottiglia Che mancheranno le guide Quando tutte le false guide saranno eliminate Che riceveranno marchio della bestia Molti di questi pastori E molti invece di pastori buoni Magari pastori che non stanno facendo molto di buono Però moriranno per Gesù Marchio non lo prenderanno In ogni caso le chiese ufficiali saranno eliminate Tranne quelle chiese ufficiali che riceveranno marchio della bestia E dalle quali faremo bene a tenerci lontane Allora in quel momento lì serviranno delle guide Che possono guidare la chiesa a livello underground A livello segreto E sarà il giorno dei 144.000 Quindi aiutare i 144.000 Alcuni di noi saranno dei 144.000 Quelli che non lo saranno dovranno aiutarli Seguirli Esso come sottopastori Sì Va bene? Allora tu stai parlando dei pastori che sono Come dire hanno un'unzione di essere leader Non sono pastori eletti O che hanno studiato per diventare pastori O che hanno qualcosa in più dei altri Sono gente che hanno deciso di seguire Gesù Di metterlo sul primo posto E il Signore li aiuta a essere pastori Niente altro? Sì, siamo chiamati a essere una generazione Un popolo Di pastori Di sacerdoti Di santi Vai a Esodo 19.5 E 6 Guarda Esodo 19.5 E verso 6 Quindi siamo chiamati già da 3500 anni fa Già nel deserto Già da Mosè Dio diede il messaggio Che siamo Siamo chiamati ad essere Un regno Un regno di preti Wow Quattro riti In offerta Fuori dalle scatole No Sacerdoti come Cristo Veri Infatti i sacerdoti in quei tempi Erano il leader della nazione Esatto Esatto Sì quindi E poi Israele fallì miseramente E Dio doveva permettere Che fu di essere distrutto Oggi il cristianesimo Ha fallito miseramente E Dio permetterà Che l'anticristo lo distrugga Capisci? Sì Infatti mentre a quest'ora Dovreste essere maestri Avete di nuovo bisogno Che vi insegnino I primi elementi Degli oracoli di Dio E siete giunti al punto Di aver bisogno di latte E non di cibo solido Chiunque infatti usa il latte Non ha esperienza Della parola di giustizia Perché è ancora un bambino Il cibo solido invece È per gli adulti Che per esperienza Hanno le facoltà esercitate A discernere il bene dal male Ma questo è chiaro Isaia 61 anche E questo è chiaro Perché dice chiaramente Che Dio vuole Che siamo maestri Che siamo leader Che insegniamo Sì anche questo mostra Paolo sta sgridando Questi fratelli Sta rimproverando Che dice Dovreste essere insegnanti E invece avete bisogno ancora Che vi insegniamo Le cose basilari Dovreste essere insegnanti Che mangino carne E invece dobbiamo darvi il latte Perché siete ancora dei bebè Siete ancora lì Con il ciucciotto in bocca Sì Capito E qui oggi Le chiese sono sedute Con il ciucciotto in bocca A ascoltare le prediche Invece di mangiare la carne soda Qual è la carne soda? Abbandonare tutto Mettere Gesù al primo posto Se c'è un lavoro Se c'è un lavoro D'accordo Molti dovranno avere un lavoro Però il lavoro è per glorificare Dio E per predicare il Vangelo E per servire Dio Se tu c'è un lavoro Quel lavoro deve essere al servizio di Dio Quel lavoro deve aiutare l'evangelizzazione Ameno E non è solamente per aiutare il mondo Alle multinazionali Se no Stai servendo il diavolo Il mondo E non Dio Se il tuo lavoro è solamente per Te, tua moglie, i tuoi figli E gli altri che vadano all'inferno Non hai capito niente Cioè io, mia moglie, i miei figli Siamo qua a servire Dio A servire Gesù A servire le sue pecore A evangelizzare A raccogliere le pecorelle nel Vangelo Non è quando amare la moglie Ma il marito e i figli E gli altri saranno angelo No Dobbiamo essere come Mia moglie deve essere come Gesù Io anche Siamo a servizio di Gesù E delle sue pecorelle Se non abbiamo capito questo Non abbiamo capito niente C'è da chiedere se siamo cristiani sul serio O solamente così nominali Va bene Isia 61,6 61,6 Ma voi sarete chiamati sacerdoti dell'Eterno E sarete chiamati ministri del nostro Dio Voi godrete le ricchezze delle nazioni E la loro gloria passerà a voi Amen Da quando servo al Signore Tanti anni Le nazioni mi aiutano Non volenti Ma anche nolenti Perché Dio comanda loro Di aiutarci direttamente o indirettamente Perché siamo sotto La benedizione Non di Abramo Ma siamo sotto La benedizione di Gesù Cristo Amen Abbiamo angeli Nel momento che uno decide Gesù voglia vivere e morire per te Gli angeli Allora vengono E ti aiutano a farlo Amen Primo Pietro 2,5 Primo Pietro 2,5 E anche voi come pietre viventi Siete edificati per essere una casa spirituale Un sacerdozio santo Per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo Amen Leggi anche il 9 Ma voi siete una stirpe eletta Un regale sacerdozio Una gente santa Un popolo acquistato per Dio Affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce Quindi E ripete in continuo Quindi Siamo chiamati ad essere sacerdoti, santi, profeti Anche nel Nuovo Testamento Anche nel Nuovo Testamento Dice un sacerdozio regale Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu appartieni a una religione mezza morta Che non ti ricevono Non capiscono che tu sei un pastore, un sacerdote, un profeta, un evangelista E un santo Allora esci dal cimitero e trovi qualcuno che capisce queste cose Se sei in una religione che ti tengono sempre a livello asilo Sempre col succhiotto in bocca Con la bottiglia del bebè a berellate Esci dall'asilo Trovati una chiesa, dei fratelli che credono nella Bibbia Non solo credono nelle religioni Siamo una generazione scelta Perché? Perché la sposa di Cristo è un gruppo di persone scelte Quindi non tutti Le vergine senza olio non sono scelti Sono state scartate Apocalisse 5,9 Apocalisse 5,9 E cantavano un nuovo cantico dicendo Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli Perché sei stato ucciso E col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazioni Dieci Ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio E regneremo sulla terra Alleluia Di nuovo siamo sacerdoti Alleluia La cosa non è di essere Voglio essere un re Voglio bla bla No, no La cosa è rendere onore a Dio Rendere gloria a Cristo Fare felice Dio Non è mica per il guadagno che seguiamo Gesù Gesù Uno cerca di farlo Non arriverà lontano Perché non può ingannare Dio L'unica maniera di seguire Gesù è di Se solamente per amore Gesù non è andato sul calvario per un guadagno È andato per una perdita La vita È andato per amore E questo si tratta Essere leader e pastori per Gesù Significa disposti ad andare sul calvario Ogni giorno c'è un piccolo calvario Quando si segue Gesù Perché ogni giorno il diavolo Sempre ti mette degli ostacoli Però diventando soldati Forti in Cristo Lo vinciamo sempre il diavolo Quindi quando abbiamo difficoltà così grandi Che sono troppo grandi Perché siamo deboli Dobbiamo abbandonare le cose Dobbiamo darci di più a Cristo Dobbiamo ricercare di più il Signore Riempirci di più di Spirito Santo E allora vinceremo il diavolo ogni volta E se il diavolo è troppo potente Troppo difficile Perché stiamo a mezzo cuore con Gesù Mettiamoci a cuore pieno con Gesù E il diavolo non potrà fare niente Perché noi siamo superiori Luca 10,19 dice Vi ho dato potere di calpestare Sopra serpenti, scorpioni E soprattutto il potere del diavolo E niente potrà farvi dal male Gesù ci ha dato il potere Quali sono i discepoli? Anche noi perché abbiamo vincito lo Spirito Santo Atti 1,8 cosa dice? Riceverete potenza quando lo Spirito Santo E verrà solo più di voi Cos'è lo Spirito Santo inferiore dei discepoli? No! Opere maggiori di queste farete Vuoi leggere Apocalisse 2,26 a favore? Apocalisse 2,26 A chi vince e ritiene fino alla fine le mie opere Darò potestà sulle nazioni Bene, sto parlando qui Quelli che hanno abbandonato tutto per il Signore Alla sposa Quelli che regneranno Sì Ok, sto parlando dei pastori praticamente Pastori veri, non quelli falsi Quando tu dici pastori vuoi dire leader? Perché a volte ci sentiamo come Io non posso essere pastore Perché non c'è un diploma Perché non ho diploma Ma nessuno mi ha scelta di essere Da pastore Abbiamo letto 1 Pietro 2,9 Dice voi siete una generazione scelta Un sacerdotio regale Una nazione santa Non c'è niente a che fare con i diplomi Cioè tutto a che fare con 1 Corinthians 12 I doni dello Spirito Però i doni dello Spirito vengono dati Puoi andare da Giovanni 14,23 I doni dello Spirito vengono dati a casaccio Perché Dio ama a te, non me Questo è il più bello, quello è il più brutto C'è un motivo perché Dio dai doni dello Spirito Regi cosa dice con la scrittura? Giovanni 14,23 Gesù rispose e gli disse Se uno mi ama, osserverà la mia parola E il padre mio l'amerà E noi veremo a lui E faremo dimora presso di lui Quindi cosa dice? Prima osservare la parola Poi viene Gesù e il Signore Dio e il figlio vengono E lo Spirito Prima ubbidiamo Poi riceviamo i doni Oh wow Capisci? Quindi anche se non c'hai battesione Allo Spirito Santo Comincia a obbedire ai comandamenti di Gesù Come Apollo Apollo predicava Uno dei più grandi predicatori della Bibbia Apollo non aveva battesione Allo Spirito Santo Lo faceva senza spirito Infatti lo faceva Gli mancava qualcosa Però lo faceva al massimo Era eloquente E c'è gente eloquente Che sono politici, banchieri Quindi se lo fanno per il diavolo Noi possiamo farlo per Gesù E queste gente del diavolo Che sono grandi politici E chiacchiano Ne parlano Non hanno lo Spirito Santo Quindi anche noi possiamo Parlare Andare Evangelizzare Senza Spirito Santo Se non lo abbiamo Questo per incoraggiare i fratelli Che Non hanno il battesione Lo Spirito Santo E che lo vogliono ricevere Quindi se tu non hai il battesione Lo Spirito Santo Non ti sedere Una poltrona per in chiesa A pregare per sempre Per mesi e mesi Comincia ad andare a evangelizzare E come tu hai detto Prima ubbidiamo E poi il Signore viene E resta con noi Certo Io ho detto Che evangelizzare Senza Spirito Santo Non si può Sì è vero Però se tu stai pregando Per riceverlo Allora puoi mettere in moto La macchina Per cominciare Certo Come quando La macchina La batteria scarica Cosa fa? Gli dà una spinta e parte Quindi si tratta di spingere Tu sei una macchina In questo caso Spingi con la batteria Scarica Poi viene Gesù Ti lancia un fulmio E la macchina parte E a volte devi spingere per mesi Perché? Perché magari sei a mezzo cuore Infatti dice in Atti Che il Spirito Santo è dato A quelli che obbediscono Atti 5, 32 32, sì Quindi dice in Apocalisse 2, 26 Chi vince E mantiene le mie opere Fino alla fine Gli darò potere Sopra le nazioni Quindi si tratta di mantenere le opere Non si tratta che lo Spirito Santo Farà tutto La grazia Farà tutto E noi dobbiamo solo Grazzarci la pancia No, no Chi mantiene le mie opere Fino alla fine Darò potere Sopra le nazioni Ameno Ameno Grazie Gesù Va bene E ricordiamoci Giovanni 14, 23 Chi mantiene la mia parola Se uno mantiene la mia parola Noi verremo Dopo che mantiene la parola E faremo dimora Daremo al Spirito Santo Se è quello che serve Se non l'ho ancora ricevuto Daremo i doni Daremo quello che hanno bisogno Quindi mantiene la mia parola Ameno Ti serve una guarigione Mantiene la sua parola Ti serve Cosa hai bisogno? I doni delle lingue? O di guarigioni O di miracoli Quello che ti serve Quello che desideri Quello che Dio ti vorrà dare Mantieni la sua parola Ameno Fai la tua parte Ameno Ameno Volevo chiederti Ma prima ascoltiamo un canto E poi volevo chiederti Ma tu non pensi che un leader Deve avere delle capacità speciali Talenti speciali Un dono da Dio Per essere un leader Deve essere capace di parlare Di guidare Saggezza Cose che non vengono naturalmente a tutti E quindi Cosa dobbiamo fare per diventare leader e pastori per Gesù? Dopo il canto? Sì Ascoltiamo il canto Tu ci hai scelti Tu ci hai scelti Per essere santi Per essere santi Per dare gloria Sontanto te Sontanto te Dicevi gloria Dicevi onore Adorazione Offriamo a te Dicevi gloria Dicevi onore Adorazione Adorazione Offriamo a te Tu ci hai scelti Tu ci hai scelti Di auto Dicevi onore Adorazione Adorazione Otriamo a te Tu ci hai scelti dalle nazioni, tu ci hai scelti per essere tuoi Tu ci hai scelti per essere santi e dare gloria soltanto a te Ricevi gloria, ricevi onore, adorazione offriamo a te Ricevi gloria, ricevi onore, adorazione offriamo a te Continuiamo cari fratelli a Radio Blast, il programma dal vivo Parlevamo di come diventare leader, pastori per Gesù, per guidare le pecorelle Come Gesù ha detto a Pietro, se mi ami, nutre le mie pecorelle Giuseppe ti chiedevo cosa dobbiamo fare per diventare pastori, per diventare leader Dobbiamo chiedere a Dio, pregare che ci dà un dono speciale Per esempio mi ricordo quando io ho incontrato voi Io ero molto timida, non potevo neanche parlare senza diventare red on my face Arrossire Voi mi avete incoraggiato molto di aiutare le persone, di diventare leader E mi ricordo che non è stato facile, non è stata una cosa naturale che avevo io dentro E per quello voglio chiedere cosa dobbiamo fare per diventare leader Per avere questa iniziativa di cui abbiamo parlato prima Beh, innanzitutto pregare, assicuratevi che si salva E poi pregare per il battesimo dello Spirito Santo Che in Atti 1.8 dice che quando ricevi il battesimo dello Spirito Santo ricevi potenza Senza il Spirito Santo non puoi essere una leader Infatti non puoi neanche vincere il diavolo Non puoi nemmeno fare guarigioni, non puoi fare niente senza il Spirito Santo Perché tutto il regno di Dio, tutto il paradiso, tutta la potenza degli arcangeli Tutta la protezione di Dio, tutta la benedizione, tutto è richiuso nello Spirito Santo Gesù nella carne non c'è più, è in cielo Gesù, ok? L'unica presenza che abbiamo di Gesù adesso è solamente lo Spirito Santo E quindi pregare disperatamente, dire il cielo è il Spirito Santo Puoi pregare in lingua, puoi fare il miracolo, quello ti pare Se non preghi in lingua non fa niente, puoi avere altri doni Che non tutti abbiamo gli stessi doni Non ascoltare le pentecostali che dicono se non preghi in lingua non c'è lo Spirito Santo Quindi non sei magari neanche salvo, stanno all'inferno, sono stupidaggini Primo Corinthians 12 dice che i doni dipendono Non tutti pregono in lingua, non tutti fanno i miracoli Non tutti sono pentecostali, non tutti sono cattolici Quindi lascia perdere queste dottrine sgangherate, ok? Quindi il Spirito Santo lo ricevi chiedendolo Chiedendolo però con tutto il cuore Se tu non sei disposto a vivere e morire per Gesù, il Spirito Santo non lo ricevi Devi essere 100% per lo Spirito Santo Perché lo Spirito Santo Gesù lo dà ai suoi discepoli Non lo dà a gente di mezzo cuore Quindi se tu sei a mezzo cuore, il Spirito Santo non lo riceverai Non avrai neanche guarigioni, neanche niente Dobbiamo essere a cuore pieno, Amen? Yeah Ok Quindi cosa dobbiamo fare? Una volta ricevuto lo Spirito Santo, ok? E questo non possiamo esagerarne l'importanza Sì Va bene Perché il Spirito Santo è l'unica presenza di Gesù che abbiamo adesso È lo Spirito Santo Dopo che hai ricevuto il Spirito Santo Ok E poi dovrai prendere la decisione Continuare a crescere Oppure dire Ciao Gesù Non ho più bisogno di te Sono salvo Vado in cielo Ho ricevuto il tuo sangue Il tuo salvezza Non mi servi più Magari mezz'oretta la domenica Ti porto una monetina E questa è una decisione da fare Ci vediamo domenica in chiesa Verrò, scalderò la mia panchina Canterò Batterò le mani Sorriderò Però servirti? No Vado a servire al mondo Sei giorni alla settimana Perché Ti amo Gesù Però mi serve la macchina nuova Mi serve i vestiti nuovi Un appartamentino più grande Prendo il culo dei miei figli Mio marito Mia moglie Questa è una decisione Sì Sbagliata Oppure possiamo difiedere Gesù Io ti seguo Vivo Vivere o morire Ti seguo Quindi Inoltre Gesù del Spirito Santo Possiamo diventare Cristiani ubbidienti O disubbidienti E quando uno vuole essere ubbidiente E lo so che sono tanti fratelli Che ci scrivono Che stanno provando di evangelizzare E vogliono essere leader Pastori Però sono timidi E non hanno questo talento Della leadership They are not outgoing How do you say that? Non sono Come si dice Estroversi Yeah Non sono estroversi Sono più chiusi Però provano Allora loro come possono essere leader? No Essere leader Non mi chiede per forza Uno come Pietro e Paolo Essere leader vuol dire Vincere la situazione in cui ti trovi Tu puoi essere su una sedia a rotelle Va bene? Non c'è un precario Per la guarigione ovviamente Ma se sei ancora su una sedia a rotelle Puoi essere un leader Della sedia a rotelle Puoi evangelizzare Quello intorno a te Sei un leader Va bene? Quindi essere un leader In qualunque situazione Sì perché tu per esempio Tu sei una persona Outgoing How I said before Estroversa Sei una persona estroversa Che a me mi sembra Che il Signore ti ha dato Questo talento Di leadership Però ci sono altri Anche qui Della nostra chiesa Che sono introversi Che sono introversi E che preferiscono Che sempre gli dici Fai questo Fai questo Fai questo E non hanno il talento Di prendere iniziativa Di fare Da propria iniziativa Le cose Ma io Il mondo è pieno di gente Che ha talenti meglio di me Però il Signore Non li può usare Perché non hanno deciso Di mettersi al servizio Di Gesù Voglio inserire un marito Una moglie Un fratello Una sorella Un pastore di chiesa Una religione Un posto di lavoro Un datore di lavoro Il denaro La televisione La politica E la lista è lunga Cioè qualcosa Dobbiamo servire E quindi ci sono Cristiani Che hanno talenti Però li usano Per il mondo Usano i talenti Per servire il mondo Sei giorni E scaldare una panchina Domenica Cioè quello che voglio dire È questo È una decisione Non importa Se hai grandi talenti O pochi No Non importa Perché i talenti Crescono Capisci Io ho il talento Di pregare per gli ammalati E io ho cominciato Nel 2004 Ho cominciato A servire Gesù Nel 75 85 95 Quindi 29 anni Io non ho mai visto Una guarigione Per imposizione Delle mani 29 anni Che è servito Il Signore Arrivato A 2004 Ho visto O 2003 Non mi ricordo Ho visto Una signora Con un cuore Che stava morendo E gli ho imposto Le mani In nome di Gesù Cristo Ho cacciato il diavolo E questa in un attimo È guarita E non è più Non è stato un miracolo Non è stato un dono di guarigione È stato un dono di miracolo Che questo Il suo cuore non è guarito Ha riuscito un cuore nuovo Di zecca Questo è un miracolo Quindi quando la persona guarisce Instantaneamente Non è dono di guarigione È dono di miracoli Che l'abbiamo tutti Questa donna aveva 77 anni È stata la prima che guarita Sì Adesso lei ha 87 anni 87 E hanno scritto un'email Dicendo che il suo cuore È come un cuore di un giovane Sì E i parenti cosa dicono? No I parenti si lamentano Perché non muore Sì I parenti sono atei Dicono Questo non muore mai Perché vogliono l'eredità Vedi come ragionano nel mondo E se non riescono a capire Perché questa qui è più sana di loro È vero Capisci Quindi Quindi dobbiamo esercitare Io per 29 anni Dio è mio testimone Credevo nelle guarigioni E mi arrabbiavo perché non guarivano Mi arrabbiavo con me stesso Quasi con Dio Perché non guarisco No Sì E come ho cominciato? Un giorno mi sono arrabbiato di più col diavolo Più dal solito Vattene di qui Satana Questa donna è figlia di Dio Una principessa È guarita Vattene Ha continuato a sgridarlo E se n'è andata Però sai che quando tu preghi così Alcune persone si offendono? Infatti uno Il settimana scorsa si è offeso Si è offeso Ci ha mandato Maledizioni Perché Fratello Giuseppe Si è arrabbiato con me Mi ha trattato male Che altro ha detto? Ha detto che lo hai sgridato Che lo hai sgridato Perché è vero che tu hai detto molte volte Svegliati Svegliati E questo qui era addormentato Scusa E arriviamo al telefono Perché per motivi di emergenza Io mi metto al telefono Non importa quanto sono occupato Uno che sia in emergenza Liberazione del diavolo Una guarigione Una salvezza che deve ricevere E mi metto al telefono Perché mica di possibili Sono troppo cove Chi sono io? Io non sono nessuno E allora E al telefono E questo era addormentato Cioè ti chiami il tuo problema E mi fa Cioè era afflitto Era afflitto Da Oppressione demoniaca Come va? Così no? Sì Questa è sotto una di voce No infatti Io gli parlavo Quello mi rispondeva Mi senti? Sì Tutto così E allora Mi sono arrabbiato E mi ha iniziato a sgridare il diavolo E ho sgridato anche lui E fa sveglio Gli ho ripetuto dieci volte Svegliati 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 Gesù ti vuole guarire Svegliati Gesù ti vuole liberare Svegliati Svegliati dieci volte Svegliati Che stai addormento Questo è offeso Sì E questo non capiva Che io stavo parlando Al diavolo Spirito del diavolo Dentro di lui Ma ti pare che io posso dire Signore diavolo Per gentilezza Potrebbe uscire Fare una passeggiata Lasciare libero Questo proprio disgraziato Per favore Signore diavolo Sia gentile Lo lasci Non è così Devi gridare al diavolo Devi arrabbiarti C'era uno Che faceva lo stesso Si chiamava Smith Wigglesworth Che sto leggendo un libro Su io E questo He was punching people Lui picchiava le persone E diceva Io non picchio te Io picchio il diavolo Però aveva risultati Sì C'era gente Che si offendeva Aveva risultati Lui guariva tutti Sì Ho sentito storia Questo è uno dei Uno dei padri Delle guarigioni Nel 1930 40 Era un idraulico Che a 47 anni 49 anni Ha cominciato a fare miracoli Di guarigioni Quando ha ricevuto L'ospedale santo Ha cominciato Stavo morendo Mi pare di ulcera E il motivo Che gli picchi Kidney stones Eh? Kidney stones Ah Erano pietre Come nel Le rignoni Pietre In italiano Kidney stones Credo che si dicono Pietre nel rignoni Qualcosa del genere Era una cosa terribile E sono arrivati Due fratelli Che credevano Nella guarigione Trovarlo Oggi Gesù Vuoi guarire E vedo che è pregato Questi hanno pregato Cosa hanno fatto Gli hanno dato un pugno E gli sono saltati addosso He was laying in bed And they jumped on him On his body Oh no They jumped up and down Stava sul letto orizzontale Sul letto Questi gli sono saltati su Con i piedi Gli hanno ballato Sullo stomaco And he got healed Ed è guarita Yes Cioè cosa è pazzesca Ovviamente E questo qui Il suo stile E questo E' uno dei più grandi guaritori Del ventesimo secolo Molto conosciuto E la sua mania Questo qui Era che quando Pregavogli Picchiava la gente Un pugno Una pedata E diceva Lo faccio Per svegliarli Perché io Devo sgridare Il diavolo Non parlargli Dulcemente Capito Quindi questo Una volta Gli hanno portato Un bambino Che stava morendo Sul palco Gli hanno messo Un bebè E questo Gli hanno dato Una pedata Il bebè L'ha buttato fuori Dal palco E tutti si sono offesi E tutti si sono offesi Però c'è un altro Il bambino Era guarito Sì Un'altra volta Era lì Che stava Cos'è che stava Facendo Stava Ah ci hanno portato Una donna Con le stampelle E la sua regia Era una destra e sinistra E loro Gli hanno portato L'hanno trascinata Che non poteva camminare Gli hanno messo davanti E lui gli fa Lasciatela Questo era un americano È americano o inglese? Inglese Inglese Pardon Allora Mi fa Lasciatela E lui ha detto Guarda Non possiamo lasciarla Perché cade Lasciatela Ho detto Pastore Questa crolla Lasciatela Insomma questi Guardano in faccia L'hanno lasciate Questa Pum Crollata Come un sacco di padate Raccoglietela E questi là Non raccoglietela La gente Nel Sai Gli astanti Il pubblico Nella chiesa La gente per bene Che scaldava le panchine Ah Che ticche Che maniera Si aspettavano Che alzavano a mano Sei guarita In nome di Gesù E allora Questo Alzatela Perché Gesù L'ha guarita Allora hanno alzato Sorella Sei guarita E qui Fa Lasciatela Lasciatela Ho detto La lasciano Questa Pum Per terra Di nuovo E una voce Nel pubblico Ha detto Ma che cuore Cruele Che hai No bestia L'hai chiamata Bestia Si come ti permetti Perché la terza Gli ha detto Alzatela Di nuovo E allora Una voce Uno Scoppiace Fa Bestia Gli ha detto Come ti permetti Come ti permetti Vuoi uccidere Quella donna E allora E allora Gli ha detto Chiudi la bocca Dice Tu fai il tuo lavoro Che io faccio il mio E poi si è girato Ho detto Di alzarla E questi Impavoriti Più di lui Che L'hanno alzato Di nuovo Fa Sorella Hai capito Che ti ho detto Che sei guarita O no Mollatela Lasciatela E questa È rimasta in piedi Ed è guarita Wow Alleluia Ok Questo qui Era un tipo Abbastanza singolo Wilgesworth Smith Wilgesworth Un tipo Però comunque prima Prima che Prima che voi mettete in pratica Questo stile Prima che date pugni Calci Assicurate Che ne avete la fede Perché se quello non guarisce Sono guai per voi Guardate anche se il tipo È più grosso di voi In caso non guarisce Però La sai Una cosa che ho letto ieri Su questo Smith Wilgesworth È che lui Non ha studiato mai Non è andato in scuola mai E per questo E lui non sapeva neanche come leggere Dopo che si è sposato A 25 anni La moglie Sua moglie L'ha insegnato come leggere Perché voleva leggere la Bibbia E quindi vedi Può essere un leader Senza diploma Senza scuola Senza sapere come leggere No no La mancanza di diploma È un vantaggio Perché il diploma Ti insegna la sedia E ti fa niente È grande Molteplici sono I vantaggi Dei Servi di Dio Non diplomati Perché il diploma Diventa un piccolo Dio Va bene Allora hai detto Che la cosa principale Che abbiamo bisogno Per diventare leader È ricevere lo Spirito Santo E poi decidere E poi dire Voglio vivere E morire per Gesù Non mi importa Cosa la gente Intorno a me Mi dice Perché il diavolo Userà Così come Il diavolo Ha usato La bocca di Pietro Per scoraggiare Gesù Maestro Matteo 16 Maestro Non devi andare a Gerusalemme E Gesù Gli ha trovato Via Satana Ma Pietro Quindi così come il diavolo Ha parlato Con Pietro Tra il suo Pietro E parlato adesso Di persone vicine a noi Persone che sono Ben intenzionate Che vogliono aiutarci Non vogliono Che andiamo a Gerusalemme E essere crocifissi Vogliono aiutarci Perché ci amano E per il tanto amore Amore carnale Ovviamente Ci sottraggono Ci deviano Ci distolgono Ci scoraggiano Dalla volontà di Dio Va bene E poi anche Non ascoltare Quello che Che sentiamo Perché i sentimenti Sempre Ci dicono Ah non puoi farlo Sei debole Tu sei timida Non puoi E la voce del diavolo Che ti ferma Che ti ferma Esatto Ma no Non c'è timidezza Tu pensi Vabbè Sei timida Mia moglie E la mia moglie È la donna Più timida Della Scandinavia Timida Guarda Facciamola copio Lei Siamo esattamente Il contrario Lei la timida Proprio Un uomo Si è vicino Gli parla Lei non sa Cosa rispondere E quindi E io invece Sono un po' diverso Infatti anche I nostri figli Qua sono abbastanza Così Estroversi Sono più italiani Che scandinavi Jasmine Come la vedi Jasmine She's ok È timida È estroversa No è estroversa Quindi diciamo Dei timidi Vabbè Andiamo avanti Allora Yes Gloria al Signore Amen Allora dobbiamo Yes C'è qualcosa a dire O guarda avanti io No Solo di meditare su queste cose Di come diventare come i dodici E non dobbiamo avere Tanti talenti E doni Solo lo Spirito Santo E la decisione Io voglio seguire Gesù Io voglio essere una discepola Questo è sufficiente Esatto Quindi non è che devi avere il nome Devi chiamarti da ora in poi San Pietro San Paolo No Rimani San peccatore Come sei San piccolino San buonanulla Però Dedichiamoci a Gesù Perché guarda È una cosa che Non è entrata nell'anticamera Del cervello di molti E che Non importa quanto serviremo Il mondo Che macchine belle compreremo Che bella casa avremo Quanto lustreremo le scarpe Alla gente intorno a noi La famiglia intorno a noi Quello che resterà Resterà solo quello che abbiamo fatto Per Gesù Cristo Amma amma Tutto il resto Per questo è che Dio deve permettere a volte divorzi A volte liti nella famiglia Per mostrare che Quell'idolo di marito Di moglie Di figli Di genitori Che abbiamo adorato Tutta la nostra vita Non era il caso di adorarlo Era più che altro il caso Di incoraggiarli A seguire Gesù con noi E se non volevano A seguire Gesù con noi Andiamo avanti lo stesso Va bene Quindi Poi un altro punto Voglio parlare E l'atmosfera Nella nostra famiglia Dobbiamo creare Un'atmosfera Di si è polato Quindi quando si mangia Tirare fuori la Bibbia Cioè buttare fuori dalla finestra Televisioni Videogames Cioè non fate diventare Vostri figli Zombie di videogames Zombie della televisione Cioè Questi bambini vegetali Davanti alla televisione Avevano quei videogames L'altro giorno Mio figlio mi ha chiesto Papà Vorremmo Se ci puoi procurare Vorremmo Ci dare permesso Di prendere gli scacchi E tu guardi Scacchi e ne perdi di tempo E solo per vedere Che tu sei più Intelligente dell'altro E cosa è concluso E andiamo a evangelizzare Sai cercare le anime Papà Ma gli scacchi però E no Niente Cioè Devi dire Devi imparare I genitori Dei imparare a dire no Il problema è che i genitori Non hanno imparato a dire no Perché viviamo una società Che il diavolo Cerca sempre di corrompere i figli Dargli quello che vogliono Cioè Il diavolo cerca di fatti Adorare i figli Cioè Devi dargli tutti i giocattoli Che vogliono La moto La macchina Eccetera No E poi quando entra Poi quando vanno nel mondo Divorziano Non sanno stare in piedi Sui loro piedi E non sanno fare niente Ok Quindi questo Atmosfera Come possiamo avere Un'atmosfera Di discipulato nella famiglia Cosa dobbiamo fare Quando mangi insieme Leggere la parola Quando ti svegli alla mattina Insegni tutti quanti A memorizzare La parola Quando vai diretto la sera Addormentarsi con la parola Musica cristiana La parola Cioè dobbiamo vivere Un'atmosfera di parola Nella famiglia Quindi organizzare Testimonianza Con la tua famiglia Se sei disposto Se non sei disposto Vai da solo Capisci Non è che la famiglia Ti puoi proibire Di andare a evangelizzare Una famiglia Che ti proibisce Di evangelizzare È una famiglia del diavolo Mi dispiace Ma è così la storia Cioè quindi devi sapere Non devi adorare Una famiglia Che non è contenta Che tu segui Gesù Quindi tu devi amare Questa famiglia Nonostante loro ti odiano Dico questo Perché molti ci schierano Dico non so cosa fare Mia moglie Mio marito Mie figlie Mie genitori Non mi permettono Di evangelizzare Senti tu fai il tuo dovere Di moglie Di marito Di figlio Eccetera Poi avendo fatto Il tuo dovere Dice Beh sentite Io a voi Non vi proibisco Di essere atei Io a voi Non vi ostacolo Di essere cristiani Scaldasedia La domenica Non sono d'accordo Che scaldasedia E fate niente Sì Non sono d'accordo Che voi siete Davanti a televisione A farvi ipnotizzare Non sono d'accordo Però non è che io Vi proibisco Voi siete lì Sport Televisione Soldi Macchina Moto Biciclette Videogames E tutte le altre cose Che il mondo ha Io non sono d'accordo Però non è che ve lo proibisco E voi perché mi proibite a me Di servire il Signore Voi state servendo Siete i servi Della televisione Degi videogames Degli amici atei Del lavoro Dei soldi Siete servi di queste cose La Bibbia chiama schiavi E io voglio servire il Signore E non me lo Non volete Mormorate Vi lamentate Perché è così O vinci te o vince il diavolo O vince Cristo O vince il diavolo Cristo ha già vinto Adesso noi dobbiamo Far vincere Cristo Attraverso di noi Quindi Capito Sì Quindi fate il vostro dovere Di moglie Di marito Di figli E poi dice Io ho fatto il mio dovere Ho cucinato Ho lavorato Adesso io voglio Servire Gesù Ogni giorno Tu cosa fai ogni giorno Spendi Due Tre Quattro ore Televisione Videogame Io voglio spendere Tre quattro ore Evangelizzando Ti proibisco a te Che fai queste cose Il tuo sport I tuoi hobby Ti proibisco No Perché mi proibisce a me Di servire Sì io voglio andare Ogni giorno Evangelizzare Perché me lo proibisci Non ti proibisco a te Di essere ateo Di essere cristiano In mezzo cuore Di non servire Dio Non sono d'accordo Però non te lo proibisco Neanche posso farlo Neanche voglio farlo Perché mi proibisci a me Di servire il mio Dio Tu servi il tuo Dio No Il mondo Il lavoro I soldi La televisione Cioè Un Dio Tra virgolette Va bene Sai come Richard Wundbrand Ha convertito la sua sposa Ti ricordi Richard Wundbrand Era cristiano Già convertito Però la sposa La moglie Non voleva seguire Gesù E sempre lo condannava E sempre gli diceva Vieni con me Andiamo a cinema Andiamo alle feste Parties E lui non voleva Richard Wundbrand Scusa Interrompo Richard Wundbrand È un grandissimo cristiano Romeno Un ebreo cristiano Che Grandissimo uomo di Dio 14 anni in prigione Torturato E tutto E questa è la sua storia E lei non voleva ascoltare di Gesù Sempre lo He was bothering him Sempre lo Insiste Lo attaccava Lo criticava Andiamo a divertirci Poi un giorno lui Si è stancato di ascoltarla Ha detto Va bene Andiamo a cinema insieme Perché prima andavano insieme A divertirsi In club a ballare Perché lui era ateo prima E lui andava di donna in donna Era un donnaiolo E non era credente Era un ebreo Tra virgolette E poi sono andati insieme a cinema Però lui ha scelto il film più sporco Con le cose più sporche del mondo Più pornografico Più E dopo il film sono andati fuori Per prendere un caffè insieme E lui ha detto Cara moglie Io mi sono un po' annoiato di te Adesso vado a trovare una ragazza più giovane E più bella E voleva divertirmi con lei in un hotel E lei è rimasta scioccata Cosa hai detto? E lui ha ripetuto Ho visto in questo film come fare Ho imparato di questo film come fare Come tradulterio Mentirti Lasciarti E vado a farlo E lei è rimasta zitta completamente E poi ha cominciato a ascoltarlo poco a poco Ha capito che Ciò che lui segue Le cose che lui crede Sono giuste E così via Per due o tre mesi Gli ha dato un addestramento Un discipolato Fino a che lei si è convertita Sì E tutte e due sono finite in prigione Per predicare Gesù Cristo Più tardi sì Adesso lui è morto Lei anche credo No Lei è viva ancora Lei è viva ancora Si chiama Sabina Sabina Una donna dolcissima Che è stata nei campi di concentramento O romeni Sotto il comunismo Poi sono Storia lunga La racconteremo un'altra volta Comunque Leggete Richard Wundbrand È uno famosissimo Io vi consiglio di leggere Tutti i libri Che lui ha scritto Sì Sono libri di discipolato Veramente Sono molto molto belli Andate nelle librerie Ci sono libri evangeliche Che hanno questo tipo di libri Libri molto belli E quelli di Richard Wundbrand Vi consiglio di comprare tutti Io l'ho fatto Sono libri eccezionali Molto molto belli Forse sono i miei preferiti Che io non leggo molti libri Cioè figatemi concentrano nella Bibbia Infatti a volte mi mandano cose da leggere Purtroppo non ho tempo di leggere tutto Sì Oltrego un po' il titolo Ho già capito la situazione Quelle di Wundbrand Però vi possono solo essere Richard Wundbrand Wundbrand con W Sì Ok Quindi scrivetelo Come suona Andate alle librerie Allora ve lo dico Richard Wundbrand W Andiamo? Yes Allora dove chiedevamo? Sull'atmosfera nella famiglia? Yes Ecco quindi Sicuriamoci di creare L'atmosfera nella nostra famiglia Di discipolato Se ne abbiamo l'autorità Io qui sono papà E quindi Insisto su quello E grazie a Dio che sono papà Perché Se no Non l'avremmo potuto Allora E se voi siete figli o mogli O eccetera Bene Se la famiglia non vi segue E voi andate avanti per Gesù Non è che Non potete permettere alla famiglia Di fermarvi Come dice Dammi una scrittura Per favore Matteo 24 Credo 13 Matteo Sì 24 Ma chi avrà perseverato Fino alla fine Sarà salvato Ok quindi Se vogliamo essere salvati Dobbiamo perseverare Fino alla fine Non perché le opere ci salvano Ma perché mostrano Che siamo salvi Se invece le nostre opere Mostrano che abbiamo abbandonato Il Signore Punto e basta Non è che perdiamo la salvezza Come dicono Farsi i profeti Ma non l'avevamo mai Ci siamo? Sì Ok Quindi la atmosfera Nella famiglia O la famiglia ci segue O facciamo senza A posto? Sì È troppo duro? Sì È perché dicono Ma la Bibbia dice Di amare i genitori I figli D'accordo Però non è che la Bibbia dice Di amare più di Dio Giunge un momento Matteo 19,29 Che deve abbandonare La famiglia che non ti vuole seguire C'è giunto il momento Che Lot ha dovuto abbandonare La moglie Che non voleva seguire È diventato salvo di sale E via di seguito Va bene Allora andiamo avanti Poi l'altro punto Vogliamo parlare Della memorizzazione Ok Va bene Quindi una cosa Che ci aiuterà A diventare pastori È memorizzare la parola Va bene Quindi Però la memorizzazione Senza praticazione Non serve a molto Perché i farisei Memorizzavano Però non praticavano Quindi Memorizzare sì Ma praticare Quindi costantemente Lavarci il cervello Con la parola di Dio Non lavarci il cervello Cioè Insozzarlo Con cose mondane Del mondo Televisione Sport Politiche E Neanche per mettere Che le notizie Telegiornali Le notizie mondiali Ci deprimano Non andiamo a dormire La sera Pensando al telegiornale Telegiornali Veloce Io il telegiornale Lo vedo Io lo vedo Su internet Di corsa Di volata Cerco di non Ok Quindi cercare Sempre di approfondire Le cose del Signore Che quando la mente Vaga La mente vaga Ok Deve vagare Nella cosa di Dio Non vagare Nella cosa del diavolo Pornografia Politica E questo dipende Da su cosa La nostra mente Si sofferma E la nostra Mente Spirituale Il nostro Io Spirituale La nostra Anima Spirituale Deve dire Alla nostra mente Cosa pensare Cosa non pensare Non dobbiamo farci guidare Dal nostro cervello Umano Carnale Egoista Ma il nostro Essere Il nostro Io Nato di nuovo Il nostro uomo Spirituale Dentro C'ha una mente Ed è separata Dalla mente Carnale La mente di Cristo Questo deve dirlo Deve dire A nostra mente Carnale Cosa pensare Cosa fare Cosa non fare Per questo Che Paolo ha detto Io Porto in schiavitù Ogni pensiero All'obbedienza Di Cristo Va bene Quindi memorizzare Memorizzare Né tanto Né poco Secondo la tua velocità Io ho qui Dei bambini Che memorizzano Dieci volte Più di altri Poi memorizzano Terrificante Quando memorizzano Loro Gli serve 20% Della scuola Degli altri Insomma C'ho bambini Che qua In un'ora Imparano La scuola Che un altro Ci vuole tre ore Quindi Non vuol dire niente L'importante È che siamo fedeli Capito Ci sono persone Che corrono A una velocità Altri A una velocità Più lenta Ma non vuol dire niente L'importante È mettere tutto il cuore Va bene Sì Quindi Ma voglio dire Che i tuoi figli E questa è una cosa Che si può applicare Anche a altre famiglie I tuoi figli Sono così E fanno scuola veloce Un'ora Due ore Perché sono ispiranti Per loro Un giorno È fatto di cose ispiranti Di fare progetti Per Gesù Evangelizzare Andare fuori Fare teatrini Cose che gli piacciono Però fare la scuola Da mattina Fino alla sera È molto annoiante Noioso Io mi ricordo I was bored Sì Mi annoiavo Io mi annoiavo molto Studiando ore e ore Per cose che Non ho avuto mai bisogno Che dopo due o tre giorni Mi dimenticavo Ho memorizzato solo perché Così era Però loro no Loro fanno dei progetti ispiranti E se possiamo dare ai figli Cose da Dio Cose giuste Che sono ispiranti Per fare per Gesù Poi vedremo che sono più felici Di fare anche le cose Che lavare i piatti Anche cucinare Anche pulire Perché sono ispirati Non sono sempre Sì La chiave è l'ispirazione Il giorno Gesù mi ha detto La chiave è l'ispirazione Yes Quindi per questo che Io ho pregato Il Signore mi ha dato il ministero Per esempio di fare teatro Io quando ho cominciato A scrivere il Signore Non sapevo niente di musica Niente di teatro Niente Ho pregato E poi Gesù mi ha dato Quando ho cominciato A avere figli Ho pregato a Gesù Da me ministeri ispiranti Che i miei figli Gli piacciono Sì Senza essere religiosi Quindi teatro Quindi abbiamo cominciato A fare teatro E c'è un grande successo Tutte le chiese Che ci conoscono Ci invitano Poi andiamo a una chiesa Ho venito anche nella mia chiesa Dice Quelli che ci Quelli che sono dentro lì Nella chiesa Ho venito nella scuola Ho venito Ci invitano Perché il teatro E' unto del Signore Sì Come dice Lo stesso La musica Lo stesso Abbiamo comprato un piano E adesso ci sono dei bambini qua Che suonano il piano Keyboard E come si dice Keyboard Comunque la tastiera Comunque E suonano Noi li chiamiamo piano Perché c'è un bambino De 12 anni 13 anni Andrea Lui è 13 anni Suonano il piano Benissimo E quindi Fare cose ispiranti Non prendere i bambini Abbibbiate sulla testa Costantemente Rimproverarli Devi leggere la Bibbia Devi memorizzare Devi predicare l'Evangelo Non è il modo di fare Non lo faranno mai Il modo di fare Non è il pastore Che dice Andate a evangelizzare le anime Il pastore che dice Seguitemi C'è stata questa sorella Che è venuta Da noi a trovarci E ha detto Ma il mio pastore Dice Bravo Dice sempre Che dobbiamo andare a predicare E lui Predica E no È sbagliato Questo Non è così Che si fa Il pastore Deve essere come Gesù Deve essere Prima a dare in strada Prima a dare l'esempio Non è mica Armiamoci a partite Sì Armiamoci Io vado davanti a voi Va bene Quindi l'importanza di Memorizzare costantemente La prova di Dio E non memorizzare Le cose del mondo Allontanarsi dagli sport Dalle politiche Come ha detto Video games Queste cose Attenzione Ai bambini Non è che possiamo Sempre dire di sì Dobbiamo imparare a dire No questo non è buono per te Sì E non è buono per te Perché? Perché non è buono Però poi A volte mettiamo Gli facciamo vedere Dei video Che io raccolgo Da internet Sul bullismo Sulla droga Nelle scuole Sull'americanismo In America Che l'America È un idolo Per molti Come l'America L'America È un disastro Un disastro Di violenza Un disastro Di blasfemia Di perversione I bambini Adesso Che si stavano Infatuando Sull'America Adesso capiscono Che l'America È un mucchio Di immondizia A parte qualche È cristiano Sì E poi Quando prendi qualcosa Che gli piace Ma è sbagliato Come videogames Per esempio Assicurarti di spiegarli Come tu hai detto E anche dargli Un'altra cosa A cambio Che è buona Per esempio Una bicicletta O i tuoi figli Giuseppe Il signore Ci hanno dato 5 Guarda 9 di Z Guarda che è Sì Però Il signore Ti ha mostrato Anche di Involverli E coinvolgerli Coinvolgerli Nei progetti Nel senso che Invece di Mettersi al computer Giocare videogames I tuoi figli Stanno costruendo Video per Youtube E li piace molto Usare i programmi Mettere le foto E tutto Per loro è come un gioco E come un gioco Per loro Però fanno qualcosa Per Gesù Con quel gioco E stanno predicando Il Vangelo E adesso lo fanno Meglio di noi E adesso lo fa meglio Di noi Bambini Giorgiomani Sì esatto Convertire le cose Che il diavolo usa E convertirle In cose Che Dio Possa usare Quindi ti faccio Il computer Bene Usiamolo per Gesù Per esempio Qui c'è una ragazza Di 17 anni E nessuno ha accesso Internet Ci mancherebbe altro Internet è la bocca Del diavolo Se non sei capace A barcamenarti Finisci dalla fossa Ma con permesso Fanno ricerche su internet Sì Con permesso Però in consiglio Insieme a qualcuno Sì Cioè noi che lasciamo Bambini Andate per le strade Incontrare amici Drogatevi No 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 Andiamo E si fanno progetti insieme Sì sì Bambini sono curati C'è l'addestramento Che dobbiamo dare A nostri figli E loro sono principi E principesse Per il regno di Dio Dobbiamo trattarli Come principi Ammano Quindi curare Nel cibo fisico Materiale Nel cibo spirituale Nella scuola Nella memorizzazione Nel leggere la Bibbia Nel andare a evangelizzare Nel proteggere Della televisione Proteggere Dalle perversioni E tutte queste cose E loro sono i principi Di domani Sono il futuro Di Dio E mandarli In una scuola Da dove imparano Omosessualità Perversioni Sesso pervertito Droga Violenza Egoismo Ad amare il mondo Amare la televisione Amare i videogames E cioè Per me è quasi un omicidio Capisco Certi fratelli Che non lo sapevano A queste cose E che capisco Che sono incastrati In queste cose Ma io A più presto Chi può uscire Ne esca Per questo ripeto Io ho tenuto sempre Mi sono tenuto sempre Quasi sempre Fuori dall'Italia E non solo Per evangelizzare In tutto il mondo Ma anche per proteggere I bambini Che quando sei Nella tua nazione Gli anticristi Ti localizzano Ti rintracciano E poi cominciano Vaccinazione Scuola E questo E quello Cioè vogliono che I suoi figli diventano Zombie come loro Invece no Io mi tengo sempre In viaggio Spostandomi Di qua e di là E sono sempre Per grazia di Dio Un passo avanti Un balzo avanti Del diavolo Va bene? Grazie Gesù Bene il prossimo punto Parlarei della testimonianza Ok C'è un punto Un altro punto Per essere pastori Tutti noi pastori Bisogna che tutti noi Evangelizziamo Sempre Ovunque Il Signore Ce ne offre L'opportunità Mi dai una scrittura Atti 5 per favore Perché se Smettiamo di evangelizzare Siamo morti Atti 5 In attesa Del funerale Essere seppelliti Non smettete di evangelizzare Atti 5 42 42 E ogni giorno Nel Tempio E per le case Non cessavano Di insegnare E di annunziare La buona novella Che Gesù È il Cristo A me Una volta Bisogna organizzare Dire ok Andiamo qua la città Andiamo qui Andiamo là D'accordo Però Non è che sempre Riesci a organizzarti Andiamo qui Andiamo là E allora come fai Andare in tutto il mondo A predicare il Vangelo Marco 16 15 Infatti Quella scrittura Non dice Si vede Si vede L'originale greco Non dice Andate in tutto il mondo Perché è una cosa impossibile E cosa dice? Dice Mentre andate In qualunque parte del mondo Mentre andate In qualunque parte Cioè praticamente Dice In qualunque parte del mondo Ti trovi Evangelizza Capito? Perché andate in tutto il mondo Non ha senso Nessuno può andare in tutto Neanche Gesù l'ha fatto Quindi l'originale greco Dice In qualunque parte del mondo Cioè Il significato è questo Più o meno In qualunque parte del mondo Andate Evangelizzate Amen È logico? Sì Quindi al lavoro Evangelizzate Ma mi licenziano Gloria a Dio Come mai Non ti hanno ancora licenziato Cosa c'è Qual'è il tuo problema Che ancora non ti perseguitano? C'è qualcosa Distorto C'è qualcosa che Qual'è il tuo problema Non ti perseguitano? Ma non c'è qualcosa Che non va con te Che la Bibbia dice Tutti quelli che Predicano il Vangelo Saranno perseguitati Perché te non ti perseguitano? Mentre per caso Sei morta nello spirito? Eh ma Perdo il posto di lavoro Gloria a Dio Gloria Bellissimo Perdo il posto di lavoro Vuol dire che Dio dovrà Benedirti Vuol dire che Dovrai vedere Se Dio è morto E se è vivo Se seguiamo Se serviamo E preghiamo E cantiamo canzoni È un Dio morto È un Dio vivo Prova ad andare da Allah Da Buddha Da Confucio Dagli dèi Hindu E dire Guarda Io ho bisogno di questo Vedi se Allah Ti risponde Vai da Allah E dici Allah Guarisci Mi sono ammalato Upp Nessuno risponde Perché? Perché non esiste Allah Prova ad andare da Buddha O da Confucio O da qualcuno Qualcuno di questi dèi Indiani Hindu Vedi se ti rispondono loro Sono morti Che devono rispondere Però quando tu vedi Gesù Gesù Mi hanno licenziato Perché predicavo il Vangelo E allora se Dio non fa qualcosa Vuol dire che è Dio falso Per me è sempre fatto qualcosa Perché non fa niente per te? Certo non lo farà la maniera degli uomini Non è che ti dice Hai perso mille dollari E qui ci sono duemila No Può darsi che devi andare in un deserto In una caverna Sto parlando in senso figurino Una prova di fede Certo Certamente Capito? Magari devi andare in un gazzemani Non è che Dio ti dice Oh hai dato la decima al pastore Che ti ha detto Che se dai la decima A Dio Tramite la tasca del pastore Parentesi E allora Dio ti darà cento volte tanto Così tu hai investito Cento dollari E volevi indietro Diecimila dollari Eh Dio non funziona così Scusa eh Che dai cento dollari Da diecimila indietro Questo Questo Caspita Questo E fai più soldi Di uno spacciatore di droga Come dai un pastore Dieci dollari Ne vuoi indietro mille Ma scusa Tu fai più soldi Di uno che vende droga Eh ma caspita Guarda se Se funzionasse così Le chiese sarebbero piene Di spacciatori di droga Perché non lo sono Perché sono bazzecole Sono stupidaggini Sì Dio non ti dà mille dollari Se dai un dollaro Dio ti prende il dollaro E dici adesso vai senza Perché? Ma ti mette la prova Ecco perché Capita? A volte io ho un acciacco Qualcosa Prego per la guarigione E quello guarisce E io no O come io sono fratello Giuseppe Come è che non sono guarito? Alleluia A me tu sei fratello Giuseppe Come mai non sei guarito? Eh perché è così E prove Eh Vabbè cosa mi interessa Io prima muoio meglio è Ma intanto fammi godere La vita per Gesù E con Gesù E seguendo Gesù E andando con Gesù E predicando Gesù Tutto il resto È immondizia Alleluia La parola Alla presidente Allora Ascoltiamo un canto allora Vuoi spiegare il canto O anche questo Internos È un canto di Marcello Marocchi Un mondo senza anima Che dice che Sempre vogliamo Un mondo più bello Vogliamo pulire i fiumi Il cielo Vogliamo tutto nuovo Foreste altre Vogliamo Bambini sani Vogliamo montagne verdi E l'anima L'anima quando la puliamo E quello è il punto Vogliamo Vogliamo Ma dell'uomo Cosa ne facciamo? L'uomo Come lo cambiamo? Capito? Appunto Se non andiamo da Gesù Si continua a sprofondare Il mondo sta sprofondando Sì Lo vedi l'iceberg Guarda bene davanti Lo vedi l'iceberg Si chiama Un iceberg Si chiama l'anticristo Sta arrivando Sì E il Titanic Il Titanic del cristianesimo mondiale E sta andando esattamente di rito Tutti cantando Sai che sul Titanic Ballavano Cantavano Subriacavano Bevano champagne Hai capito? E finché si sono schiantati Contro Contro L'iceberg Non è stato Uno dei più grandi incidenti Però è famoso Perché per quel tempo Era grandissimo Quindi è un monito grandissimo Il Titanic del cristianesimo Ballando Cantando Sedendosi in chiesa la domenica Cantando Canti a Dio Stanno addiritto All'iceberg Dall'anticristo Con i loro Con i loro Farsi profeti Dormite Dormite Non preparatevi Perché saremo rapiti Su un letto di rose Continuate a cantare Le ninna nanne Marcello Marocchi Un mondo senza anima Attenzione che viene l'iceberg Amen Prepararsi Vogliamo pulire i fiumi Vogliamo pulire il mare Vogliamo pulire il cielo Faremo tutto nuovo Vogliamo foreste alte Vogliamo laghi come specchi Vogliamo spiagge deserte Le vogliamo sempre aperte Vogliamo che la faccia Non si sporchi più di nero Vogliamo bambini sani Con un futuro dentro gli occhi Vogliamo montagne verdi Vogliamo montagne verdi E non alberi secchi Vogliamo 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 Ma dell'uomo dimmi cosa ne facciamo Vogliamo ipo Vogliamo 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 un mondo pulito Ma come uomo io mi sento un po' tradito Nell'anima, nell'anima, nell'anima. Vogliamo pulire i fiumi, vogliamo pulire il mare, vogliamo pulire il cielo, faremo tutto nuovo. Vogliamo vedere un bimbo, che coglie fiori in mezzo a un prato, correre a piedi nudi, senza il rischio che si buchi. Vogliamo, vogliamo, ma dimmi, dimmi l'uomo come lo cambiamo. Vogliamo un mondo pulito, ma dentro il cuore sento che... Ci manca l'anima, ci manca l'anima, un mondo senza anima per me. Continuiamo a Radio Blast, cari fratelli. Parlavamo prima di come fare dentro la famiglia un'atmosfera di discipolato. Sì, perché senza quell'atmosfera lì sai che vita triste, disgraziata, lì sempre a pettegolarsi, sempre a punzecchiarsi, sempre a criticarsi. Brutto. Creare un'atmosfera di amore. E per creare l'atmosfera di amore bisogna essere amorevole, non aspettare che il coniuge, il fratello, la sorella facciano il primo passo, che ci perdonino, che siano pieni di amore. Noi dobbiamo fare il primo passo. Noi dobbiamo essere come Gesù. Tutti vogliamo essere come Gesù, però non facciamo il passo di Gesù. Sì. Mettiamo che gli altri siano Gesù. Sì. Bene, essere come Gesù non è una canzone, è una messa in pratica, non è una canzone cantata a livello teorico, è una vita vissuta. Cominciare quindi con sacrificio, quindi mettendosi in ginocchio e chiedendo a Gesù, dammi la forza, non ci riesco, dammi la forza Gesù, aiutami e Gesù ti aiuterà. Amen. Sì, è abbastanza disperata. Lei dice Proverbi 22,6, guarda, per favore. Proverbi. 22,6. A maestra il fanciulo sulla via da seguire, ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio. Deuteronomio 6. Adestrare i bambini all'inizio, cioè ci stai seminando, è come un seminario continuo. Poi il bambino arriva all'età, magari 18 anni, e segue il diavolo, segue il mondo, segue l'egoismo, segue quello che vuole far lui, non quello che vuole Gesù. Segue quello che dice il mondo, non quello che dice Dio. Segue la sua testa carnale, non la mente di Cristo, e poi sappiamo come finisce. Dopo alcuni anni di grande gioia, figlio al prodigo, si ritrova divorziato con qualche figlio di qua e di là. a dover magari mantenere una moglie divorziata con figli, quindi mantenere, pagare ogni mese, una moglie e un figlio che ha perso. E se una moglie si sta lì senza marito o cercasse un altro e non lo trova mai, finché non trova Gesù. Deuteronomio 6, verso 6 a 9. Deuteronomio 6, da 6 a 9. Capito, quindi questo è il comandamento. E questo qui non è passato con Gesù, questo è Gesù. Va bene, attenzione, questa non è la legge di Mosè, cerchiamo di non essere ciechi. Dice queste parole che ti comando, cioè le parole che Mosè ha dato oggi, sono le parole di Gesù, il Vangelo. Dice le insegnerai diligentemente ai tuoi bambini, quindi lasciare perdere videogames, televisioni e altre marchigine del diavolo. Insegnare le parole di Dio, e non come predica, come fanno le chiese la domenica. Insegnargli con amore, in una maniera divertente. Mentre se vuoi comprare il gelato, digli questo qui, sai Gesù mi ha detto di comprarti un gelato. Se fai una torta, sai, stavo pregando e Gesù mi ha detto, fai una torta per i bambini. Se gli fai un regalo, sai, Gesù mi ha mostrato di farti questo regalo. Sì, i bambini qui, da noi, gli piace andare in una stanza separata, preparare un teatrino, 5-10 minuti. Poi vengono fuori, senza parole, lo recitano e noi dobbiamo indovinare quale storia della Bibbia stanno parlando. Oh, le piace molto. I bambini gli piace moltissimo. Perché they make us look stupid and they like that. Sì, perché gli adulti non lo sanno. Quindi insegnare i bambini, poi dice, parla dell'amore del Signore, non delle prediche del Signore, non delle prediche religiose, butta nell'immondizia. Parla dell'amore di Gesù. Cioè, gli insegnamenti di Gesù, presentarli sempre in amore, col sorriso e in una maniera ispirante. Chiaro, a volte ci sono storie tragiche, che si può anche piangere, non è questo che voglio dire che devi ridere quando c'è bisogno di piangere. No, entrare nell'atmosfera della parola, dello spirito, dell'insegnamento. Poi quello che voglio dire, evitare, voglio dire di usare la Bibbia come un bastone. Vai in chiesa, prega, memorizza. No, devi ispirare. Infatti i nostri bambini che memorizzano, non perché abbiamo una regola, non abbiamo mai avuto una legge di memorizzare, li abbiamo ispirati. Abbiamo cominciato, quando avevano tre anni, quattro anni, a memorizzare mezza scrittura e gli davano delle noccioline, delle castagne, non dolci, che dolci qui caramelle non le diamo perché ora vienono solo i denti. Quindi facciamo torte, sì, però tutti insieme si fa una torta e si mangia tutto lì. Ma qui caramelle non esistono, gomma da masticare, niente, perché cos'è sto… Va bene, quindi mentre parla ai tuoi figli, dice il comandamento, quando ti siedi nella tua casa e quando cammini per la strada, quando vai a dormire e quando ti alzi. Quindi sempre parlare, sempre trovare un modo… Qui abbiamo un sacco di Bibbie, Bibbie illustrate, film cristiani, abbiamo ogni tipo immaginabile di canto cristiano, film cristiano, film del Vangelo, perché abbiamo un'abbondanza. E qui si guarda solo cose che guidano al Signore, film, storie, cartoni animati, sempre Gesù e Gesù e Gesù. Siamo fanatici per Gesù, siamo estremisti, radicali e non comprendiamo uno che non lo sia. Gesù è stato un fanatico, Gesù è stato un estremista, un radicale, altrimenti non sarebbe andato sul Calvario a morire per un disgraziatono come me. Uno che si meritava l'inferno. Quindi come possiamo dire sono cristiano ma non fanatico? Guai a te, guai a me se non lo siamo. Va bene? Quindi dobbiamo entrare nello Spirito di Cristo. Se cominciamo a fare questo senza Spirito Santo, se cominciamo a obbedire a questa cosa senza essere battezzati nel Spirito Santo, mentre preghiamo per esso, prima o poi lo riceveremo. Perché dice in Giovanni 14,23, dice che chi obbedisce la mia parola noi verremo da lui. Prima obbedire la parola, poi viene Gesù. Va bene? Amen, amen. Grazie Gesù. Abbiamo parlato dell'importanza di ascoltare la voce del Signore. Su questo c'è molto da dire. Cioè una volta di Gesù dallo Spirito Santo, va bene? Gesù ci parla anche prima dello Spirito Santo, però solo che non capiamo. Come ci parla prima? Sì, anche senza Spirito Santo Gesù ti parla, solo che non sai che è Gesù, sei confuso. Quando c'è lo Spirito Santo è più facile discernere. Però io conosco a volte, anche capitato a me, di situazioni, di decisioni e non riuscivo a capire la volontà di Dio. C'è lo Spirito Santo, sono stato battezzato. Però bisogna scoprire, studiare la parola, studiare il Vangelo, studiare la Bibbia. E la Bibbia ti mostra. La Bibbia è bellissima per sapere se lo Spirito Santo è che ti guida o se invece è il diavolo che fa finta di essere lo Spirito Santo. Perché è sempre così. Quindi conoscendo la Bibbia tu sarai a differenza. E questa è una cosa grande da imparare. Perché mi ricordo a volte quando cercavamo la volontà di Dio, incontravamo ostacoli e ci chiedevamo, ma questo è Dio che ci ostacola o è il diavolo? Esatto, guarda. È importante sapere la differenza. Sì, legge Isaia 30, 21, guarda. Infatti, memorizzate questa scrittura, fratelli. Isaia 30, 21. Perché avete bisogno di usare questa scrittura quando il diavolo viene e vi inganna. Sai, c'è da prendere decisioni. Mi sposo con questa donna o con l'altra donna? Quest'uomo o l'altro uomo? Sto in questa città o mi sposto? Sto in Europa o esco dall'Europa che viene dall'Anticristo? Cioè, dobbiamo ascoltare la voce del Spirito Santo. Isaia 30, 21. Cosa dice? 30, 21. Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una parola che dirà, questa è la via, camminate in essa. Che questo è il modo del Vecchio Testamento, ok? Udrei dire le parole profetiche. Nel Nuo Testamento è molto più facile. Dio non deve parlare in inglese o italiano. Ma sarebbe più facile sentire la voce? Sì, però, vedi, diciamo Dio parla con segnali e come televisione riceve un segnale, poi lo deve decifrare, tradurre, la televisione lo traduce e tu sulla televisione scegli la lingua, inglese, francese, italiano. Quando arriva la televisione il segnale non è in italiano, è un segnale elettrico, un segnale radio, televisivo e la televisione lo traduce nella lingua. Quindi quando Dio ci parla, non è che ci parla in italiano, in greco, in ebraico o in inglese. Dio ci manda un segnale. Allora il nostro spirito lo traduce in italiano, lo traduce in inglese, va bene? Quindi sentire la voce, sì, Dio può anche sentire la voce, Dio magari a volte ti parlerà con delle parole, ma di solito sono dei segnali che Dio ti manda, la tua anima e che tu devi decifrare tramite la Bibbia. E' questo che a volte è difficile, sapere se quella voce è Dio. E come un bambino tu gli insegni i principi. Non è che sei sempre lì a parlargli al bambino. Il bambino poi cresce, diventa adolescente, va nelle strade da solo ed ecco che c'è un amico che dice proviamo un po' di marijuana. Tu non sei lì e dirgli no. E quello dice, sì, marijuana non dà la sua effazione. Non dà la sua effazione, però ti porta a una droga maggiore. Sì. E tu non sei lì per dirglielo. Deve essere il fondamento che tu gli hai insegnato che quando il bambino cresce non se ne diparte, non se ne allontana. Tu non sei lì in mezzo alla strada, non sei lì a scuola per sussurrare a tuo figlio non fare questo, non fare quello. Deve essere nel suo cuore. E allo stesso modo noi dobbiamo imparare la Bibbia di maniera che la Bibbia, il Vangelo sia nel nostro cuore. Che quando il diavolo viene e ci dice fai questo il fondamento del nostro cuore ci dice no, quello è sbagliato. Perché il fondamento nel tuo cuore lui sa che è sbagliato. Allora dobbiamo imparare a discernere il bene dal male proprio come abbiamo letto in Ebrei 5. Ebrei 4, 12. Quelli che sono maturi hanno imparato come discernere il bene dal male. Ah, quello era Ebrei 5. Ebrei 5, sì, alla fine. Esatto. Quindi, e come diventiamo maturi? Non è difficile. È sempre deciso. Non dipende da Dio. Dio dammi un dono che possa essere fedele. No, Dio non ti dà il dono di fedeltà. No. Dio dammi un dono che non guardo pornografia. Ma Dio non ti darà quel dono? Dio dammi il dono di scegliere la donna giusta. Dio non ti dà quel dono. Perché queste qui devi scegliere tu. E se è quello Dio ti darà il dono, ma se tu vuoi scegliere la donna sbagliata, come Sansone che è andato con Delilah. Sì. Capisce? Se tu che scegli? Tu devi scegliere. C'è questo fratello in Austria che mi portava in giro con la macchina, mi faceva da autista, Dio lo benedica. E siamo andati a evangelizzare, c'era anche tu, no? Sì. Siamo andati a una ventina di chiese a evangelizzare. Dio lo benedica. Io dormivo mentre guidava, perché predicavo la mattina. Sì. Io ero a aspettarci davanti alla porta, no? Sì, sì. E c'era da spostarsi, 100 chilometri, a volte 200 chilometri. E questo fratello ci portava in macchina, Dio lo benedica, un fratello romeno, Dio lo benedica, che ci portava in giro quelle chiese a Vienna eravamo. Sì. Che anno? 2009? 2009. I think. No, 2009, anzi 2009 sì, poi siamo usciti dal 2011. E allora questo fratello mi faceva sempre la stessa domanda, quando viaggiamo tantissime ore, e mi faceva sempre la stessa domanda, Angela qual era? Lui voleva sposare una ragazza, però non era sicuro se è la volontà di Dio o no. E cosa voleva da me? Dargli una profezia. Esatto. Lui voleva che io gli desse una profezia, se doveva sposare questa ragazza o no. E proprio sua sorella, che è una ragazza dolcissima, che ci ospitava. Dolcissima, che abbiamo dormito a casa sua. Sì. L'aveva tre figli. Madre di tre figli. L'aveva tre figli e si è sposato anni fa con uno, perché una profeta, una profetessa, una profetessa della sua chiesa pentecostale, no? Sì. Ha profetizzato che è la volontà di Dio che tu sposi quell'uomo. Lei non è stata sicura, mi ha detto, nel suo cuore mai è stata sicura. Però lo ha fatto perché la profetessa ha detto così. E lei adesso era separata e questo uomo voleva uccidere i bambini, l'ha minacciato, era possedato. Ha chiamato la polizia, si sono separati. E lui era anche pentecostale. Adesso non so cosa fanno, sembra che si sono riavvicinati, ma quando eravamo lì, io gli ho parlato a lui. No, adesso stanno bene. Era un disastro. Adesso stanno bene. E sembra che si è pentito, no? Sì, sì. Comunque. È stato un matrimonio per via di profezie. Sì, allora questo mi chiedeva sempre la sposa o non la sposa. E io gli parlavo per dalle ore in macchina e dicevo guarda, questo, quell'altro, questo. Gli davo tanti messaggi e lui mi ascoltava anche per mezz'ora filata. Poi mi diceva, ma fratello Giuseppe io non ho capito. La sposa o no? Stai dicendo di sì o no? E gli dò un'altra risposta di dieci minuti. Ah sì, sì, ho capito, sì, sì, sì. Alla fine, fratello Giuseppe non mi ha risposto alla domanda. Ma la devo sposare o no? E continuavo a dirgli, guarda che devi andare da Gesù, guarda che devi ricevere tutto dal Signore. No, ma tu l'hai dato anche... Non me la sto sposando io a questa donna. Non posso dirti di sì, poi le cose non funzionano e tu vieni a chiedere a me, che donna mi hai dato. Come la tua sorella, infatti. E come Adamo ha detto a Dio, che Dio gli fa a Adamo, perché hai mangiato il frutto? È la donna che tu mi hai dato. Tu mi hai dato. E tu me l'hai data, è colpa tua. Sì. Però le hai dato anche tanti consigli pratici di come fare per controllare se questa ragazza è giusta o no. Cominciando a lavorare insieme per Gesù, evangelizzare insieme, fare progetti insieme, servire Gesù senza coinvolgersi sessualmente o sentimentamente. Se il sesso è l'ultima cosa, quando cominci a fare il sesso sei già inguaiato, te la sposi per il sesso. E poi quello lì, come neve al sole. Le hai detto di aspettare mesi, anche un anno, due anni, finché tu sai sicuramente che lei è la donna giusta, che lavorate bene insieme, che avete passato qualche problema insieme. Tu hai una relazione sessuale con una prostituta e tutto va bene per una mezz'oretta. Capisci? Per una notte tutto bene, l'hai pagata bene. Quindi trovare l'unione nel sesso non è un problema. Capisci? Ma il fatto è quando ti svegli e quando scendi dal letto che devi... Ok, che succede adesso? Che ti trovi davanti una donna così, un uomo così. E poi vengono i figli e poi ci sono divisioni. Uno vuole far crescere i figli cristiani, l'altro no. Quello vuole fare senza trevisioni e l'altro invece la vuole. Uno vuole davangelizzare, l'altro dice no. Andiamo a evangelizzare, dice no, andiamo in chiesa a sederci. Capisci? Quindi controllare queste cose prima, va bene? Sì. Ok. Adesso sono sposati. Si sono sposati. Hanno aspettato due anni e si sono sposati. Vedi, hanno aspettato due anni. Sì. Gloria al Signore. Sì, grazie Gesù. E sembra che stanno bene, no? Sì, stanno molto bene, sì. Sembra che è andata bene. Una famiglia benedetta. Quindi, guarda, andiamo avanti? Sì. Dunque, essere una chiesa di pastori. Dammi la scrittura, guarda. Chiesa di pastori Giovanni 14-12, che abbiamo citato prima, la leggiamo. Giovanni 12. 14-12. Ah, 14. Ho detto il 14. La leggiamo, la leggiamo già citata prima. In verità, in verità vi dico, chi crede in me farà anche lì le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Ok, come si interpreta? Vado al Padre e torno sotto forma di Spirito Santo. Quindi, opere maggiore, non perché noi siamo maggiori di Gesù, perché siamo maggiori di prima, nel senso che adesso Gesù è in noi più potentemente di prima, perché lo Spirito Santo è in noi. Amen. È lui che fa le opere. Quindi, come dicevo, io ho cominciato a vedere miracoli di guarigioni quando ho continuato a insistere, insistere e alla fine li ho visti. Quindi, se te vuoi avere doni di miracoli, parlare in lingue, profezie, essere un piccolo apostolo, insomma, continua, vai, muoviti, muoviti. Il bambino non impara a camminare se dice no, non voglio neanche provare, fin quando sei seduto in chiesa, seduto su una panchina e non provi a seguire Gesù, camminare per Gesù, parlare per Gesù, evangelizzare per Gesù, salvare le anime per Gesù, è chiaro che non ci riuscirai mai. E devi esercitarti, figliolo, fratellino, diamoci la mossa, alziamoci questa sedia a rotella, va bene? Amen. Quindi, se vogliamo fare maggiori opere, come Gesù ha detto, guarda Matteo 10, la famosa scrittura sulla potenza, Matteo 10, 1. 10, 1. Poi chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Quindi, siamo chiamati a fare grandi opere e non possiamo farle se non diventiamo una chiesa di pastori, capite? Io qui sono l'anziano, non voglio essere l'anziano e gli altri tutti giovani, voglio tutti anziani qua, perché uno di questi giorni io me ne voglio andare in paradiso, voglio andare a Gesù e può darsi che me ne vado prima di voi, non lo so, non so se il Signore mi fa campare fino a come Metusalemme, cioè alla fine della tribolazione. Speriamo che ti fa. Se Dio vuole, va bene, se no sono contento di andare, guarda. Ma guarda che se muori ti risuscitiamo. Sarà meglio che quello non ve l'insegno, non ti azzardare a risuscitarmi. Preghiamo per la fede di risuscitare i morti. Quindi, cioè io la più grande gioia provo quando siete tutti i pastori che possono rilassarmi e amare Gesù, adorare Gesù, fare una passeggiata sotto gli albi e dire grazie a Dio, ci sono i fratelli che stanno predicando con me, meglio di me. Io non vedo loro che arrivano più fratelli qui in questa zona, che ci danno una mano a evangelizzare qui il nome di Gesù. Alcuni sono venuti. Sì, alcuni, sì, ha visto ieri. C'è una famiglia bellissima da Italia che stanno visitando questi giorni. Sì, sono qui che ci visitano. Adesso stanno già andando in giro in altre città per conoscere tutto. Sì, sì, si attoneranno, grazie Gesù. Sono venuti per dieci giorni, ho preso l'aereo, andiamo a frattare Giuseppe. Che ispirante, gloria al Signore. Quindi va bene. Amen. Sì, infatti ci conoscevo solo alla radio, così è venuto a toccare di persona, ma esiste la situazione qui, cos'è che hai detto ieri, che hai trovato una che è rimasta abbastanza contenta. Sì, sì, sì. Grazie Gesù, di Dio vi benedica a tutti quanti, sono in quattro. Sì. Allora, andiamo al prossimo, andiamo avanti? Sì. Cosa dice se parliamo un po' di 144.000? Sì. Guarda, vuoi leggere Apocalisse 14.1? Apocalisse 14.1? Sì, cosa c'è a che fare questo con la chiesa dei pastori? Leggiamo. Poi vedi l'agnello che stava in piedi sul monte di Sion e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. Bene. Leggiamo, cos'è, 14... Ho letto uno. Sì, 14.4, guarda. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, sono infatti vergini. Questo è a livello spirituale, ok? Perché Abram era sposato, Davide era sposato, Gesù è sposato, sai che Gesù è sposato, no? E non ancora. Con chi è sposato Gesù? Sarà sposato. Con te. Con la chiesa. Con noi, con la chiesa. Essi sono quelli che seguono l'agnello, dovunque egli va. Essi sono stati riscattati fra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Alleluia. 5. Qui parla dei predicatori di stupidaggini, come quelli che predicano che Gesù dice la salvezza e poi se la riprende. Che c'è il rapimento prima della tribolazione. Come fanno a credere se non c'è scritto nella Bibbia? Verso 5. Sulla loro bocca non è stata trovata menzogna, perché sono irreprensibili davanti al trono di Dio. Quindi questi predicatori che predicano bugie, senza verificarle scritturalmente, sono la bocca piena di menzogne. Quindi questi non saranno benedetti. Gloria Signore. Quindi, tu sei stata chiamata Angela a essere uno dei 144.000? No. Sei sicura? I don't know, but I don't think so. Sì o no? No. Ancora non ti hai chiamata, Signore? Non lo so. Allora, loro non dobbiamo essere come loro? Ma loro sono un grande esempio per noi. Non dobbiamo essere come loro, allora? Sì che dobbiamo. Ma non sei chiamata, non ti hai chiamata ancora, no? No. Quindi? Ma non siamo nel tempo della fine, ancora non ci sono, non esistono. Allora, ascolta, quello che sto cercando di farti dire, ma non lo dici, è questo. What? Non siamo stati chiamati a essere 144.000, perlomeno fino adesso. Magari qualcuno saranno chiamati. Magari qualcuno lo sarà, vedremo. Dipende da Dio. Però, io voglio vivere, voglio usare come standard, come punto di arrivo, come esempio, i 144.000. Capisci? Sì. Cioè non siamo stati chiamati, ciò non significa che andiamo in un dormitorio a dormire. Sì, lasciamo loro che fanno tutto. Sì, noi andiamo a dormire in chiesa, a cantare canzoni. No, andiamo a seguire Gesù, a vivere come Gesù, il massimo che possiamo. Cosa vuol dire che non si è stato chiamati a 644.000? Cerca di vivere. Che sono questi? Queste sono le guide del tempo della fine, sono 144.000 pastori, evangelisti, profeti, che guideranno la chiesa nel tempo della fine, durante la tribolazione, quando non ci sarà internet, smartphone, silliphone, crazyphone. Traduci. Quando non ci sarà smartphone, telefono intelligente, telefono stupido. Telefono fesso, telefono imbroglione, telefono bugiardo. Bene, quindi quando non avremo più queste computer, smartphone, email, whatsapp, what's down, whatsapp, 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 twitter, 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 email, facebook, eccetera. Quando non ci saranno più queste cose, allora noi dovremo essere, cioè la chiesa sarà guidata dai 144.000, cioè ci saranno milioni di cristiani sbandati, i falsi profeti, quelli che dicono che ci sarà rapimento prima della tribolazione, saranno morti, oppure come Giuda avranno ricevuto il marchio della bestia, credo che molti di questi riceveranno il marchio della bestia, perché sono così fuori binario molti di questi che neanche sappiamo differenza. C'è questo falso profeta, il capo della chiesa calvinista, un certo John MacArthur, grandissima chiesa cristiana in America, sempre in televisione, John MacArthur, e lui disse cosa predica, l'ho già detto altre volte, dice ricevete pure il marchio della bestia perché poi vi pentite dopo. Questo qui è un falso profeta, uno dei più grandi che ho mai sentiti, perché Apocalisse 14 verso 9 dice se ricevi il marchio della bestia vai all'inferno. Perché il marchio ti controllerà, non puoi pentirti più. Non puoi pentirti che il marchio ti dice pentirti di cosa, non fa niente di male, se qui stai seguendo questo grande politico mondiale, che la Bibbia chiama l'anticristo, un grande uomo che parla sempre di pace, si fa guerre, però a fin di bene, per la pace. Tutte le guerre che stava facendo in America fino adesso, che ha fatto sempre per la pace, l'ha fatto, sempre per la pace. Il diavolo c'è la maschera della pace, amèn? Va bene, quindi se vogliamo essere una chiesa di pastori, guardiamo il 144.000, viviamo come loro, guidiamo le pecorelle, non cerchiamo di innalzare la nostra chiesa, la chiesa di fratello Giuseppe, di sorella Deborah, la chiesa pentecostale, pentecattolico, pentebattista. Innalziamo la chiesa di Gesù. Va bene, non c'è tempo per la mia chiesa o la tua. Cosa gli interessa a Dio della tua chiesa? Dio gli interessa la chiesa di Gesù, cosa gli interessa gli edifici di pietre morte, stramorte e stramarce? Gli interessa la chiesa di pietre eterne. Amèn. Va bene, quindi questo volevo dire, il nostro lavoro non è, tu vuoi essere un pastore della nostra chiesa, allora il nostro lavoro non è di innalzare noi stessi, la nostra religione, denominazione, ma di insegnare gli altri, capito? Il nostro, guardami una scrittura, primo Timoteo 2,2, guarda. Primo Timoteo 2? Sì, se noi vogliamo essere pastori, va bene, secondo Timoteo 2,2. Allora, se vuoi essere un pastore devi insegnare agli altri, cioè, capisci, il nostro scopo non è di attirare gli altri, lascia la chiesa di là e vieni nella chiesa di qua perché ci servono le tue decime. Niente di male della decima se hai una chiesa vera, a condizione che viene usata per il Vangelo, è importante darla la decima perché se no Dio non ti benedice, non ti maledice, però non ti benedice neanche. Il Vecchio Testamento è rimaledetto se non la davi, il Nuovo Testamento non c'è maledizione, però ti toglie la benedizione. Decima è buona darla, noi la mettiamo da parte ancora, gloria al Signore, però non darle una chiesa che la spendano a fare un edificio morto, assicuratevi a spesa per fare edificio di chiese, di pietre vive, di pecorelle vive, amèn? Sì. Quindi leggimi da me questa scrittura secondo il motivo 2.2. E le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Va bene, quindi le cose che noi vi insegniamo fratelli, però se ascoltate lo Spirito Santo ve le insegnerà meglio di me, io sono solamente un piccolissimo messaggero dello Spirito Santo, io sono piccolo. Io quello che sto cercando di fare con il nostro corso biblico e quando il corso biblico finisce con gli insegnamenti settimanali e così, è che voi dipendiate dallo Spirito Santo, non siete dipendenti di fratello Giuseppe, dovete diventare dipendenti da Gesù. Anche qui nella mia comunità, nella nostra chiesa, qui nella zona, i fratelli devono essere dipendenti dal Signore, perché fratello Giuseppe non è sempre lì con voi ogni giorno. E se mi telefono e la batteria è finita, non posso rispondere al telefono, cosa fate? Siamo qui, ci prendo decisioni immediati in 5 minuti, fratello Giuseppe, è pronto? E io magari la batteria scarica, il telefono non risponde. Va bene, allora cosa fai? Allora ti colleghi con un altro telefono, il telefono dello Spirito Santo, qual è il numero del telefono dello Spirito Santo? Geremia 33? Esatto, sì. Brava, vedo che... Geremia 33. Il numero del telefono, per telefonare è Gesù e il numero è 333. Geremia 33,3, questo è il numero per telefonare a Dio. Wait, I find it. Quindi scrivete questo numero di telefono, per favore, si telefona anche senza cellulare, tra l'altro. Geremia 33,3. Cosa dice? Invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Ok, quindi anche senza comprare smartphone, telefoni intelligenti o telefoni fessi, tanto fra poco devo fare a meno di tutti. Quindi, telefonare a Gesù come? Basta chiudere gli occhi, anche occhi aperti, segui della macchina per favore, a meno che non vuoi dare un paradiso di colpo, ti consiglio di tenere i panni aperti. Amen, amen. Ok? Se stai decidendo di sposarti, ti consiglio prima di sposarti di aprire bene gli occhi. Dopo che sei sposato, chiudili più che puoi. Ma prima di sposarti, aprili. Allora, una caratteristica di un leader, dicevi secondo Timoteo 2,2, di trasmettere ad altri tutto quello che abbiamo imparato. Sì, anche di più. Io trasmetto anche quello che non ho imparato. E come fai quello? Profezia, rivelazione. Sempre quando insegno mi vengono… mentre predico io imparo, perché ti pare che tutte queste cose che dico vengono dal mio cervellino? Tu sai benissimo che cervello c'ho io. Da gallina. Io oltre mi dimentico di quanti anni c'ho. Devo calcolare. Ma insomma c'ho. Non mi chiedere quanti anni c'ha mia moglie. So che… Ma non dire questo alla radio, che non sai quanti anni c'ha mia moglie. No, è la data di nascita, ma per favore. Ma sul compleanno almeno? Il compleanno sì, e mi ricordate sempre voi, devo essere onesto, perché non mi ricordo i compleanni. E a volte non mi ricordo neanche il mio. Cioè mi dico, sai che… Ok, non ti ricordi il suo compleanno, però ha detto che ieri gli hai dato un fiore, anche se non era il suo compleanno. È quello più importante, sai. Ok, quindi come vedi… Non c'è anche se vi ho fai solito. Stai cercando di salvarmi la faccia. No, io e mia moglie, cosa vuoi. Cioè lei ormai ha capito che ha sposato un campo di missione. È una missionaria, io sono il suo campo di missione. Quindi grazie a Gesù. Dio ha mandato un angelo qui a aver messo in corda di me, non non è mica la donna perfetta, però è al di sopra di quello che meritavo e ogni giorno cerco di benedirla, incoraggiarla, baciarla, ispirarla. Non è che sempre ci riesco perché sono un disgraziatone, come la maggior parte dei mariti, però insomma cerco. Insomma, gloria signora, lo dovremmo, secondo Timoteo 2 e 2. Se non insegniamo agli altri non siamo pastori, però se insegniamo agli altri loro saranno pastori anche se non lo siamo noi. E poi insegnare cose che anche non sappiamo in base alla rivelazione. Mentre parlo mi vengono cose che non ho mai saputo. Infatti a volte mi fanno domande, infatti Giuseppe di questo e questo e questo. Però penso a Gesù e lui mi dà la risposta, ma mi succede sempre. Voglio dire che se uno vuole diventare un pastore per Gesù, un pastore nello spirito, diciamo, non un pastore con la diploma, vuole diventare un leader, come può essere addestrato? Chi può insegnarlo? Perché se vai a una chiesa e dici io voglio essere addestrato e diventare pastore, quello ti butta fuori e dici no, i pastori sono io qui, cosa vuoi? E' una concorrenza fuori di qua. Quelli si spaventano, infatti abbiamo sentito tante volte i fratelli che dicevano che la chiesa non mi lascia evangelizzare nelle strade. Chi vuole diventare pastore venga qui che ho bisogno di aiuto, ho bisogno, ho bisogno di assistenti, chiunque può fare pastore, però si tratta di combattere, si tratta di andare in prima linea, in trincia e sparare, non si deve essere riascoltare, c'è lavoro per tutti qua. Va bene, però non possono venire qui la maggioranza, sono là lontano da noi, come posso imparare. E siamo una chiesa intercontinentale, infatti, c'è un nuovo fratello che è italiano che sta in Taiwan, attaccato alla Cina, ha detto che verrà quando? E l'anno prossimo spera di venire con un cinese. Questo gennaio, con un fratello cinese che lo ha evangelizzato. Un fratello che lo ha evangelizzato cinese, quindi gloria al Signore, preghiamo. Allora, se non esiste nessuno vicino a te che ti può addestrare e insegnare, perché è più facile quando di persona puoi ricevere questo addestramento. Ma guarda, noi abbiamo fatto un corso biblico di quattro mesi e se i fratelli se lo studiano bene, 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 già alla fine di quello, con le scritture che ha memorizzato e addestramento e se hanno ubbidito, ubbidito gli insegnamenti di andare a evangelizzare, di non sedersi a cantare canzoni e basta, ma a cantare mentre vanno, allora alla fine di quattro mesi già saranno dei leader, già avranno imparato a ascoltare dal Signore, se avranno messo in pratica gli insegnamenti, perché sono insegnamenti che non sono teorici, li ho sperimentati io di persona questi insegnamenti che ho dato. Queste scritture che ho dato da memorizzare non sono scritture per riempire spazi vuoti, ma sono scritture che vincono il diavolo, che ti insegnano a fare guarigioni, che ti insegnano a memorizzare, che ti insegna a fare felice la tua famiglia se ti ascolta, che ti insegna a creare una chiesa a casa tua e che ti insegna che se a casa tua non vogliono farlo, almeno lo fai tu, con loro o senza di loro, sempre amando la famiglia, però se la famiglia è una palla al piede che non ne vuole sapere di Gesù, non ne vuole sapere di Bibbia, tu vai avanti lo stesso e loro dovranno seguirti, se non ti seguono tu segui di Gesù. Quindi ci sono tante cose questo corso biblico che insegna, però il corso biblico è solo per spaccare il ghiaccio, seminare, però dopo quattro mesi dobbiamo continuare a innaffiare, la chiesa non si ferma dopo quattro mesi, ma casomai inizia, va bene? Sì, a mano. Bene, quindi questa è la potenza dell'insegnare agli altri, la potenza di insegnare ad altri essere come noi e meglio di noi. Cioè Gesù ha detto, opere maggiore di me farete, Gesù non era geloso, la gelosia è solamente in queste chiese che il pastore è geloso e che uno prende il suo posto. C'è tante evangelizzazioni da fare, ci sono milioni, miliardi che stanno andando all'inferno. Ogni città può andare quasi a iniziare nuove chiese e questa è un paura che qualcuno gli prende il suo posto, questi sono mercenari. Il pastore dovrebbe insegnare altri, tutti i membri della chiesa devono diventare pastori. Va bene? Era solamente Erode nella Bibbia, gente come lui che quando ha sentito che veniva un re che stava nascendo a Betlemme è andato ad ammazzare tutti i bambini. Oggi quante chiese stanno uccidendo fratelli nello spirito per paura che prendono il loro posto? Quanti Erode ci sono nelle chiese oggi che stanno uccidendo bambini di Betlemme, bambini, fratelli cristiani che vorrebbero fare qualcosa, vorrebbero evangelizzare, però questi Erode per gelosia che tutti vedono che questi piccolini sono meglio di loro, o tra i vecchi pieni di vino vecchio, li scoraggiano, li buttano giù, li criticano. Diciamo messaggi dopo messaggi di sorelle che vanno alla loro chiesa e parlano con i pastori e dicono per fuori mi insegna l'Apocalisse, mi insegna il tempo della fine. E questi gol su questo sono cose raffigurate, ognuno se lo deve leggere da solo per giustificare che non ci capiscono niente. E quando loro vanno lì dicono guarda noi abbiamo un corso biblico, abbiamo capito che il rapimento è dopo la tribolazione, quello di prima è falso e loro li scomunicano, li maledicono, li condannano. Ho sentito le storie che mi fanno rizzare il cappello in testa. Abbiamo parlato l'altro giorno di questo, va bene? Sì, però anche se alcuni vogliono solo evangelizzare, uscire nelle strade, nelle case, i pastori hanno detto che sono unsubmitted. Che sono ribelli, non sono sottomessi perché vogliono andare a evangelizzare nelle strade. Perché siccome lui non va al fariseo, chi ci va è un ribelle. Ma il ribelle sono questi pastori. I ribelli sono questi insegnanti che si sono riballati contro Dio, che non ci hanno insegnato la Bibbia, il Vangelo, l'evangelizzazione a diventare piccoli Gesù, a diventare pastori come loro e meglio di loro. Un albero che non fa frutti è morto. Se questi pastori non generano altri pastori, sono morti, stramorti, seppelliteli, uscite dal cimitero. Se siete in un'ottima chiesa, rimanete e date una mano. Se siete in un cimitero, lasciate le tombe, lascia che i morti seppelliscano i morti e vai tu a evangelizzare e predicare il regno di Dio. Va bene? Guarda, io vorrei concludere con la sposa. Questo è l'ultimo passo. Sei pronta? Sì. Sei pronta ad essere la sposa di Cristo? Oh, ancora no però, sto imparando. Gloria, signora. Una chiesa di pastori è una chiesa sposa. Va bene? Ammè. Guarda, leggi Filippesi 3,7, guarda. Come si diventa sposa? Si diventa sposa iniziando con la comunione di Gesù. Allora. Filippesi 3,7. 3,7. Ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. E per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede in Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, la potenza della Sua risurrezione e la comunione delle Sue sofferenze, essendo reso conforme alla Sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio, ossia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anche io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanti siamo perfetti, abbiamo dunque questi pensieri, e se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Questa è la sposa con l'olio. L'olio, come dice Paolo, è dimenticare le cose dietro e protendendoci verso le cose che sono davanti e come Lot che ha dimenticato la moglie alle spalle, che è diventata statua di sale e si è sforzato di andare avanti e ha vinto. Amen. Quindi non guardiamo la moglie di Lot di dietro, non guardiamo quelli che ci tirano indietro, non guardiamo quelli che si arrabbiano perché vogliamo seguire Gesù. vogliono che siamo morti come loro, che siamo passivi come loro, che siamo senza frutti come loro. Continuiamo a seguire Gesù. Se tu leggi il Vangelo, Gesù va verso la riva del lago, c'è Pietro e Andrea, seguitemi, quelli hanno mollato le reti e l'hanno seguiti. Cammino ancora un po', c'era un'altra coppia di discepoli, Giovanni e Giacomo, seguiti, hanno mollato le reti e l'hanno seguiti. Cosa pensi che i genitori hanno pensato di questi qua? Sono impazziti questi, hanno mollato le reti e sono spariti. Questo è la chiamata di Gesù, mollare le reti, cosa sono le reti? Qualunque cosa che ci invischia. La rete è una cosa che intrappola, la rete è una cosa che ci blocca, che ci ferma, quindi lasciare le reti, le reti di qualunque cosa che, qualunque cosa, persona, lavoro, occupazione, trappola, qualunque cosa che ci separa dall'essere discepoli di Gesù, che ci separa quindi dall'essere sposa di Gesù, abbandonare le reti. La rete è di un lavoro, di una compagnia di persone, persone intorno che ci scoraggiano, che ci lottano, che ci deprimano, che ci maledicono, che ci criticano. La maledizione comincia col dire male, uno dice male di te è una maledizione. Va bene, quindi abbandonare il mondo che ci vorrebbe separarci da Gesù. Non dobbiamo amare il mondo che ci separa da Gesù. Non dobbiamo cercare di compiacere al mondo che ci separa da Gesù. Dobbiamo abbandonarlo. Secondo Corinzi 6 dice proprio quello, separarsi, separarsi dal mondo. Questa è la sposa di Cristo. La sposa di Cristo non è capita dalle prostitute del mondo. La sposa di Cristo non è capita dalle prostitute religiose. La sposa di Cristo è come Cristo. Cristo non era capito, era criticato, sparlato, maledetto. L'hanno chiamato diavolo, Balzebù l'hanno chiamato. La sposa di Cristo è così. La sposa di Cristo viene chiamata diavola, Balzebù. Tu sei cattivo, tu qui, tu là. Perché? Perché non stanno adorando il diavolo. Perché non adorano il mondo, perché non servono al mondo. Vogliamo servire Gesù. Andiamo avanti. Amen. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Questa è la sposa di Gesù. Ma mi ha dato scritto dal secondo Corinzi 4,2. Guarda. Dio benedica i fratelli che capiscono queste cose. E Dio aiuti quelli che non le vogliono capire. Amen. Secondo Corinzi 4,2. Sì, fino al 5 magari. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore, e siamo vostri servi per l'amore di Gesù. Amen. Amen. Che Dio ci aiuti. Amen. Quindi è una cosa abbastanza sobria questo messaggio. Sì. Dice, non dobbiamo usare la parola di Dio in modo ingannevole. Oggi molti usano il Vangelo, la parola di Dio nelle chiese in modo ingannevole. Sono i falsi Cristi che Gesù ci ha avvisato a Matteo 24, 24, che ci saranno falsi Cristi che inganneranno se fosse possibile anche gli eletti, ma non è possibile. Che gli eletti si stanno separando da queste chiese, uno a uno, se ne stanno andando lasciando i morti alle spalle. Capisci? Dove sono questi falsi Cristi? Non mica sono quei guru indiani, guru che dicono di essere Gesù, ma no, quelli non ingannerebbero nemmeno un deficiente, nemmeno un pazzo da manicomi ingannerebbero. Ma è vero, sì. Cioè, tantomeno gli eletti. Quindi dove sono questi falsi Cristi che ingannerebbero anche gli eletti? E sono nelle chiese. Sono i Cristi predicati da questi pastori falsi che predicono sciocchezze, che vogliono solo potere sulle anime. E poi dice, se questo Vangelo è velato, è velato per quelli che muoiono. Quindi le chiese sono tantissime, che sono nelle chiese, stanno morendo, non lo sanno e non riescono a vedere il Vangelo. Ho predicato a tantissime chiese, col Vangelo, con la parola, con le scritture, e non le hanno credute, non mi hanno creduto. Perché hanno le loro tradizioni, hanno il cervello lavato dei loro ritualismi, dei loro riti, dei loro insegnamenti che gli hanno dato. Eppure noi non predichiamo noi stessi, non sono andato a predicare la mia religione, sono andato a predicare Gesù Cristo, come dice il verso 5, leggi di nuovo. Verso 5. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù è il Signore, e siamo vostri servi per l'amore di Gesù. Quindi, un altro modo per essere una chiesa di pastori, la vera chiesa di Cristo non predica la propria chiesa. Capisci? I veri cristiani non invitano la gente alla chiesa pentecostale, o cattolica, o protestante, o evangelica. Le invitano a Cristo. Infatti la gente che evangelizza mi dice, io sono cattolico, io sono evangelico. non rispondo neanche. Ok, credo in Gesù, Dio ti benedica. E' Dio che può dire a uno, sposti da questa catapecchia religiosa, o ad un'altra catapecchia religiosa. Io no. Infatti io non invito nessuno ad andare a nessuna chiesa. Dio deve dire se devono far parte della nostra chiesa qui, o se devono rimanere in una chiesa cattolica. Chi sono io per dire, tu esci dalla tua chiesa cattolica, unisciti alla mia? Chi sono io? Dio deve dirglielo. E se glielo dicessi anche non serve a niente. Il mio lavoro è dagli amore, dagli verità, dagli evangelo. E se te gli immetti abbastanza evangelo, prima o poi tutta la sporcizia viene a galla, la sporcizia religiosa, finalmente aprono gli occhi, fino al punto che aprendo gli occhi e dicono, ma sai che tutta questa cosa religiosa non ci serve? Finalmente dopo un po' aprono gli occhi, dopo un giorno, due, settimana, due, dicono, ma sai cosa? Ci serve solo Gesù. Tutte queste sciocchezze religiose che ci hanno inculcato, ci serve solo il Vangelo, solo Gesù. Alleluia! Finalmente! Tombola! Ce l'avete fatta e ci siamo arrivati. Romani, capitolo 8, guarda. Vede, verso 16. Romani 8, 16. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Continuo. Bellissimo! E poi leggiamo fino al 18. Io ritengo, infatti, che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Alleluia! Amen! Quindi non c'è paragone alla gloria che è manifestata in noi, se, verso 17, se soffriamo con Lui. Se soffriamo con Lui, saremo glorificati insieme. Sì. Però se abbiamo paura di soffrire in questo mondo, perché abbiamo paura del diavolo, abbiamo paura di quattro farisei, abbiamo paura, che so, delle persone intorno a noi che sono atei o che sono falsi cristiani o mezzi cristiani, allora non è che non regneremo niente. Saremo come le stolte, vergini, sciocche, senza olio, che saranno chiuse fuori dalla camera noziale. Tu vuoi essere chiuso fuori dalla camera noziale? Non te lo consiglio. No, of course not. Questo vuoi passare un'eternità separata dallo sposo Cristo per compiacere il diavolo qui, per compiacere il mondo qua, per compiacere un parente, uno vicino a te che non gli interessa di seguire Gesù, non gli interessa di evangelizzare, non gli interessa di leggere la Bibbia, non gli interessa di far crescere i figli secondo la Bibbia, non gli interessa di glorificare Gesù, non parla mai di Gesù. Per compiacere a lui, a lei o loro, io devo essere separato dalla camera noziale. Io, la mia testimonianza è questa, io ho quelli così, e ne ho avuto diversi vicini a me, li ho mollati tutti, li ho lasciati tutti, ho detto addio, vi voglio bene, ma continuo, seguite, no, noi no, allora ciao. Io non li ho abbandonati, mi hanno abbandonato loro, gente vicinissima, parenti strettississimi, va bene? compreso un fratello carnale, ho abbandonato alle spalle, gli voglio ancora bene, prego per lui, non gli interessa Gesù, non gli interessa predicare il Vangelo, non gli interessa la Bibbia, tranne che in modo superficiale, va bene? io non voglio rinunciare a Gesù, la mia vita eterna con Gesù, la mia vicinanza con Gesù, per compiacere uno che di Gesù non gli interessa niente, lo amo, li amo, tantissimi così intorno ne ho avuti, ok? Gli voglio bene, però, prego che si convertano, però, io non voglio fermarmi con la moglie di Lot, gloria al Signore, quindi, siamo chiamati, così dice il verso 16, ad essere eredi con Dio, e coeredi con Cristo, siamo chiamati, a ereditare con Cristo, l'accetteremo, l'hai chiamato o no? sì, accetteremo, di sedersi sul suo trono, ma, è un trono che assomiglia attualmente come una croce, tutti vorrebbero sedersi sul trono, ecco il trono, calma, c'è un'entrata particolare, si chiama il Calvario, non solo il Calvario di Gesù, c'è un Calvario per ciascuno di noi, a volte è rappresentato da un abbandono, da una separazione non voluta, c'è una madre di un discepolo, tanti anni fa, che non ho conosciuto, un missionario mi ha raccontato una storia, un fratello che evangelizzavamo insieme, e mi ha raccontato di un tale, che avevano evangelizzato, e questo ha deciso di seguire Gesù, è andato a casa, e gliel'ha detto, dopo è successo, è scoppiato l'inferno, cose, mi abbandoni, non mi ami, la Bibbia dice di amare i genitori, come lasciare il tuo lavoro, la tua carriera, senza soldi, come farai, insomma questo qui è diventato schizofrenico, alla fine gli ha detto, se tu mi lasci, io mi butto dal balcone, gli ha detto, va bene, com'è finita? Non lo so, questa è la testimonianza che ho ricevuto, poi com'è finita non si sa, cioè se uno mi dice, guarda, se tu segui Gesù mi suicido, e dico, senti, cara mamma, questa era la mamma, cara mamma, zia, nonna, quello che sei, io ti voglio bene, spero che non ti suicidi, perché il Signore ti dà una scolacciata quando arrivi là, spera di no, prego di no, però non puoi minacciarmi, ricattarmi e dire, se segui Gesù ti suicidi, io seguo Gesù e spero che non fai niente, non fai nessuna sciocchezza, e comunque credo che non ha fatto niente di quello, penso che era solo fumo, niente al rosto, fumo negli occhi, capisci, giunge il momento quando la moglie di Lotte si gira indietro a guardare, Lotte deve dire, cosa faccio? Mi giro anch'io, Eva ha mangiato il frutto, che faccio? la Bibbia dice, la Bibbia che arriverà, ancora non c'è, dirà di amare la moglie, amare il marito, amare le mogli, e allora per amore della moglie, mangio il frutto proibito, e Adamo ha fatto uno sbagliare, Adamo deve fare come Lotte, mangiare il frutto, ah l'ha già mangiato, brava, uh che brava, l'hai già mangiato eh? Adesso ti arrangi, io non lo mangio con te, ah l'hai già mangiato, sì sì, adesso, guarda ti do l'esempio, diventeremo come Dio, sai, se hai visto il trono, ci sederemo noi sul trono, Dio, gli daremo uno sgabello, io e te, e il diavolo, sul trono, sai, il diavolo ha detto che, Satana ha detto che, sai, è una buona idea, sai, così entra un po' di democrazia in cielo, un po' di demonecrazia, sai, capito? E così è cominciato tutto, e sta ancora andando avanti così, capisci? Lo stesso ricatto, Amen, gloria al Signore. Amen, una cosa bella che hai detto ieri, hai detto, our husband wants babies, il nostro sposo vuole bambini, se noi non siamo una sposa incinta, siamo sterile, sposo, Cristo vuole una sposa, vergini con olio, che rimangono incinta, non prostitute, che vanno con qualunque diavolo, passa per le strade, qualunque televisione, qualunque soldo, qualunque denaro, qualunque lavoro, una macchina, quello è avere un rapporto sessuale con demoni, la Bibbia parla di questo, parla di rapporti con demoni, nello spirito, è come una specie di sesso spirituale, capito? Per questo che nella Bibbia parla di prostitute, nel Vecchio Testamento parla tutto di prostitute, Israele la prostituta, che prostituzione parla? Adorazione di idoli, quando adoro in idola una macchina, un lavoro, una carriera, una casa, i soldi, capito? E se è una prostituta spirituale, hai commesso adulterio contro Dio, va bene? E il Signore vuole che diamo figli invece, vuole una moglie, una sposa che sia sempre incinta, che produca figli, capisci? e quindi le chiese sterili, che non salvano anime, sono chiese sterili, sono donne sterili, che prendono la pillola anticoncezionale, per non rimanere incinta, la pillola si chiama religione, capito? La pillola si chiama la panchina della domenica, che devo scaldare, la pillola si chiama non evangelizzare, perché non hai il diploma, non ascoltate i falsi profeti, non ascoltate i diavoli, ascoltate Gesù, ascoltate il Vangelo, fratelli, il Vangelo dice, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, ed ogni giorno, per il Tempio, per la casa, non smettevano di insegnare alla buona novella che Gesù è Cristo, ecco, io vi do potere, sopra serpenti, scorpioni, nulla vi farà dal male, andate, battezzateli, battezzate tutte le nazioni, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, come il Padre ha mandato a me, così io mando voi, questo dice il Signore, non dice andate in un cimitero, chiamato cristianesimo, e morite insieme ai morti, lascia che morte seppelliscono i morti, viene l'anticristo, siccome non vogliono farsi svegliare, dalla parola di Dio, che io predico, e altri meglio di me predicano, il Signore manderà l'anticristo, a dargli una risvegliatina, siccome Israele non voleva ascoltare Geremia, non voleva ascoltare, Isaia, Geremia, non voleva ascoltare i profeti, non voleva ascoltare la parola, Dio ha mandato a Babilonia a svegliarla, ha mandato a Siria, in Israele, ha mandato a Babilonia, a Gerusalemme, li hanno svegliati loro, li hanno uccisi, distrutti, li hanno mandati romani, li hanno crocifissi, e adesso manderà l'anticristo, ma i falsi profeti dicono, uguali ai falsi profeti, il tempo di Geremia, il libro di Geremia, i falsi profeti di oggi dicono, no, il nostro Dio è capace di proteggerci, sì, ma non vuole, il nostro Dio ci ama, sì, però voi siete disobbedienti, il nostro Dio ci salverà, no, sto mandando l'anticristo invece, tutti questi falsi profeti, che predicano l'apriamento, prima della tripolazione, dovrebbero studiare un pochettino meglio, il libro di Geremia, tutti i falsi profeti, come loro a profetizzare, Dio ci salverà, pace, e Geremia dice, no, Dio vi distruggerà, falso profeta, e l'ho messo in prigione, volevano uccidere, bene, io mi fermerei qui, amata sorella, io ti voglio ringraziare, per il tuo aiuto, il tuo sorriso, il tuo amore, la tua gentilezza, la tua fede, la tua benegazione, la tua pazienza, grande il tuo premio in cielo, grande il tuo premio in cielo, sei un'ottima conduttrice di radio, e tu sopporti persino predicatori come me, che non è poco, ma senza il predicatore cosa faccio? E magari, che so, ti riposi un po' di più, no, non voglio riposarmi, infatti, sto ringraziando molto a Gesù, per l'opportunità di servirlo, per l'onore di essere qui a servirlo, e non voglio fare niente altro nella mia vita, di continuare a fare meglio, meglio e meglio ogni giorno. Stiamo servendo Gesù, siamo tutti sotto lo stesso gioco, e questo lavoro che stiamo facendo, molte volte lo vedo, è un po' come una specie di crocifissione, non posso spostarmi un millimetro, sono mille cose, la mia mente carnale vorrebbe fare, andare e dire, il Signore mi dice, no, questo è il tuo gioco, questa è la tua croce, i fratelli ci scrivono, non ho bisogno, sono in situazioni disperate, e non posso spostarmi un centimetro di quello che Dio mi ha chiamato, e questa è la nostra croce, amata sorella, capisci, la nostra croce è bella, ora, difficile dopo, qualche volta è ispirante, qualche volta è una battaglia, a volte ci scrivono e ci benedicono, a volte ci scrivono e ci maledicono, ma diciamo il 99% ci benedicono, il 99% gloria al Signore, e quando ci perseguitano e ci dicono parolacce e ci mandano anche bugie contro di noi, e perché l'hanno fatto anche con Gesù, e noi amiamo anche i nemici, amèn, amèn, preghiamo per tutti, amèn, gloria al Signore, sì, bene, ci fermiamo qui? Sì, per oggi sì, ah via, gloria al Signore, vuole dire una preghiera lunga, però la, mi sento crollare, quindi vuoi pregare tu, perché il Signore ci viti tutti, amèn, sono un po' esausto, e vuoi pregare tu che Gesù ci viti a essere sposa, con l'olio, e so che tu preghi delle preghiere bellissime, a te vai, Dio ti benedica, sì, ti senti in difficoltà, con la lingua, diteci Gesù, a mettere il nostro cuore nelle Tue mani, confidare che tutti prenderà cura di noi, help us not to listen to our cornal mind, our wrong feelings, but to Your Word, ma la Tua Parola, help us to believe Your Word blindly, perché diventerà realtà, we will see the fruits of it, Lord help us to live and die only for You, aiutaci a vivere e morire solo per Te, non per il mondo, non per gli inganni del mondo, aiutaci, proteggici dagli inganni, Gesù, non vogliamo vivere una bugia, neanche una bugia cosiddetta cristiana, vogliamo solo la verità, vogliamo essere fruttuosi per Te, vogliamo darti i Tuoi bambini spirituali, aiutaci a farli nascere nel Tuo regno, farli nascere di nuovo per Te, Gesù, so che a volte è difficile, ci manca a volte il coraggio, ma aiutaci a creare la Tua promessa, che Tu sei con noi, che Tu ci prendi per la mano, e ci darai la forza, e dobbiamo solo essere là, Signora, a Tua disposizione, e Tu farai tutto, non saremo noi, ma sarai Tu a operare, Signore, ho visto questo così tante volte, ci hai sorpresi così tante volte, ho dovuto solo obbedire, e Tu Gesù hai fatto tutto, aiutaci, Gesù, a confidare in Te, nel nome di Gesù Cristo, non mi interessano i premi, non mi interessano essere 144.000, voglio solo essere con Te, Gesù, solo stare con Te, Gesù, se solo vogliamo essere Gesù, vogliamo essere la Tua sposa, Gesù, non ci interessano i premi, Gesù, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, tu non sei morto sul Calvario, per i premi, se sei morto perché ci hai amato, Signora, vogliamo essere come Te, non ci interessa una grande chiesa, un grande palazzo, grandi premi, non ci interessa niente, vogliamo solo farti felice, Gesù, perché Tu sei il nostro sposo, Signore, vogliamo farti felice, Gesù, e poi, è importante che siamo vicini a Te, Signore, perché Tu sei la verità, Signore, cose ci interessano, dei troni, eccetera, queste sono cose, Signore, vogliamo essere con Te, vogliamo essere la Tua sposa, Signore, che Ti segue, a occhi chiusi, Signore, che confidiamo in Te, Signore, a tutto il cuore, Gesù, a me, Signore, Gesù, una preghiera speciale, per corale che ci ascoltano, Gesù, che sono frangenti difficili, situazioni difficili, riceviamo lettere che spezzano il cuore, Signore, famiglie spezzate, separate, che vogliono far crescere i figli, in modo cristiano, ma ci sono dei parenti, ci sono delle presenze nella famiglia, che non vogliono Te, non vogliono Gesù, non vogliono la Bibbia, sono innamorati della televisione, dei videogames, del mondo, innamorati di ciò che il diavolo dà, e questi fratelli e sorelle ci scrivono, piangendo, non sanno cosa fare, Gesù, dell'ora la forza, Signore, ho cercato di dare la parola, ho cercato di dare la via di uscire, Signore, perché la via sei Tu, e a volte è sacrificio, a volte sono abbandoni, a volte sono lotte contro il diavolo, contro persone incredule, non è la sola via, Signore, perché la via della moglie di lotte, Signore, è la via della morte, Signore, la via giusta si chiama Gesù, nome di Gesù, Vabbè, ti abbiamo accesso, grazie, vabbè, grazie. Io voglio star con te, e questo son sicuro, e sono stati belli, tutti quei momenti, che camminammo insieme, io pensavo, che accettare te, fosse stato poco importante, invece mi sbagliavo, io non comprendevo, che eri tutto per me, se potessi portare indietro il tempo, per poter avere quel abbraccio, e ora manca in me, ma comprendo che mi dai ancora il tempo, per poter ritornare, per avere quel abbraccio, pensare, che eri tutto per me, che eri tutto per me, che eri tutto per me, per questo ora piango, se mi accetti, se mi accetti, nel tuo cuore, non piangere per me, sarò sempre con te, nel tuo cammino, ti prendo, ti prendo per mano, voglio star con te, in quel luogo potrai entrare, se resti con me. Io voglio star con te, adesso son sicuro, come pensare, che la vita possa terminare, in un secondo, la vita a volte, può durare, solo un momento, ma se tu vorrai, accettando, vivrai in eterno, se potessi portare indietro il tempo, per averti di nuovo, poter aver quel abbraccio, che ora manca in me, ma comprendo che sono ancora il tempo, per poter ritornare, per aver quel abbraccio, e la tua pretenza, per questo ora prego, pensando a te, Gesù. non ha mai caduto a me, io sono in quel luogo, pieno di luce, dove si si fai, dove puoi star, se mi accetti, nel tuo cuore, non piangere per me, solo sempre con te, nel tuo cammino, ti prendo per amare, voglio star con te, in quel luogo potrai entrare, se resti con me, se resti con me, con me, io non ti lascerò, non ti abbandonerò. oooohh 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 oooohh